ma buongiorno ma no ci sono adesso leggo tutto quello che avete scritto tutte quante le vostre ipotesi sul perché io non ci fossi la tecnica allora l'acqua l'ho presa ultima cosa che ho fatto è stata prendermi l'acqua poi ho il caffettino da bere e quindi sono ci sono ci sono buongiorno adesso leggiamo quanto tempo sembro passato ma guarda 12 ore tipo sembrano passate che outfit si no oggi sono in outfit tipo palestra sono ginnico quest'oggi si non avevo voglia ho detto ma perché già che mi devo mettere una maglia per fare le live e non posso stare a torso nudo anzi a torso nudo che è più corretto mi metto una canotta così respiro di più anche anche le ascelle respirano fa caldo fa caldo infatti nudo no per il decoro di queste live evitiamo tristezza del lunedì più tristezza dell'ultima puntata di next oggi giornataccia no silvia no non dire così non dire così voglio farmi desiderare quello sempre e non sono non sono non ho mangiato granite ho neanche mangiato il gelatino e arriva prima vale ciao ciao a tutti esatto l'ultima puntata allora mi faccio attendere per per creare suspense intanto grazie a tutti coloro che già si sono abbonati avete fatto partire live train grazie daniele grazie guy brush grazie 3 il 3 ma grazie mille grazie anche a gabry 99 per il follow grazie mille a tutti quanti e questo è next questo è dungeon dice tv che vi tiene compagnia nell'arco della settimana e oggi siamo siamo proprio qui per next ovvero il nostro format di notizie dove andiamo a scoprire tutti quanti gli annunci che ci sono stati andiamo a parlare di tutte quante le novità che sono in arrivo in questa puntata parleremo anche di tutte quante le novità dell'estate anche del del prossimo mese di agosto perché andiamo in vacanza quindi next si prende una breve pausa ma vedrete che ritorneremo più freschi di prima penso che magari potremmo forse ritornare già prima di settembre vediamo vediamo ci saranno le impressioni di settembre oppure ci mi dovrete svegliare quando no lì quando settembre finisce quindi no ci vediamo di sicuro prima wake me up when september ends si poteva organizzare una puntata a bordo piscina sarebbe stato sarebbe stato bello bravo giovanno chiede ma riparte a settembre si chiede qui no 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 ovviamente si ripartirà non vi possiamo abbandonare assolutamente quindi ci ritroveremo tra qualche settimana adesso appunto noi banalmente saremo in vacanza io e vale anche per per qualche giorno e poi ci si ritroverà dopo poi il vediamo sarà la prima di settembre l'ultima di agosto insomma adesso poi lo lo definiremo lo definiremo nei nei prossimi nei prossimi giorni lenders ti hanno tamponato la macchina oh mamma mia dispiace spero che comunque tu stia tu stia bene perché le macchine saranno giù e le macchine si aggiustano non è non è un problema per mostrare gli scarsi bicipiti che ho la canottiera no è proprio solo per il caldo in realtà non ho non ho attaccato il pinguinetto un ventilatore la che comunque fa fa circolare un po l'aria e ieri si è stati bene in live in realtà perché ieri grazie a tutti coloro che erano presenti a seguire con noi la cerimonia di premiazione dello spiel desiares che ieri ci ha ci ha tenuto compagnia con questi ospiti con questa comica super divertente dove anche la traduttrice non sapeva se ridere o piangere in in quel momento secondo me un po cringe un po imbarazzante in realtà ma io direi che allora mi prendo il caffettino non ho i piedini a mollo sotto la scrivania mi dispiace e quel solaio non dovrebbe essere una specie di forno almeno d'estate è inabitabile allora magna gatti fa chiaramente più caldo che non al piano sotto di casa perché comunque siamo in mansarda ed è c'è un po meno possibilità di creare correnti d'aria qua sopra avendo soltanto vari abbaini lucernai il finestre che danno sul tetto velux però diciamo che comunque si si sta bene proprio quando magari c'è eccessivamente caldo e magari dobbiamo registrare registrando teniamo tutto chiuso per questioni di luci in più avendo i fari accesi insomma la temperatura li cresce ma lì si attacca il si attacca il condizionatore si attacca il pinguinetto e e si sta e si sta direttamente si sta decisamente decisamente bene e 15 agosto no 15 agosto no non ripartiamo quella settimana sicuramente ma ripartiremo appunto fine agosto comunque di sicuro inizio settembre siamo qua anche perché poi a settembre ci saranno un sacco di altre cose vi ricordo anche ancora i corti in gioco che si chiuderà poi ad agosto la finestra dove poter spedire i vostri racconti e poi verrà poi fatta la cerimonia di premiazione quindi quello anche a settembre ci sarà e esatto tutti ad aosta come dice luca assolutamente sì ci ci incontreremo in quello del giocaosta per chi ci sarà e ho detto che viene anche la signora in verde porta la bella comica però viene con calma è stato una stanchezza alla fine povera povera donna povera presentatrice i momenti epici dello spiel di ogni anno c'è sempre riservano sempre qualche qualche chicca dai melx ci sarai dal 9 settembre ma al 9 settembre sicuramente ci vediamo e buone buone ferie anche a te tra poco il compleanno di qualcuno sì oggi è il compleanno di mia mamma l'abbiamo festeggiata ieri infatti sono un po scappato alla fine della live ma perché avevamo cena per per festeggiare nonna irene oggi è il compleanno di nonna irene quindi tanti auguri nonna ciao non so se sta seguendo la live ma in ogni caso ciao poi si ci sarà anche il mio compleanno tra tra qualche giorno ma ci ci vedremo organizziamo la tempesta di draghi con teo mentre siete in ferie dai che vi aspetto ma guarda è un argomento di cui si parla da anni di farlo con teo appena teo si dà disponibile assolutamente ci ci siamo assolutamente sì e quest'oggi di cosa parliamo di un sacco di cose quindi io ho finito il mio caffè e allora possiamo partire spostiamoci quindi di qua io mi rimpicciolisco qua in un angolino e andiamo a a parlare delle notizie che tengono banco in questi giorni e la notizia principale proprio che ieri hanno assegnato i premi in germania per il miglior gioco dell'anno nelle tre categorie il miglior gioco per bambini il miglior gioco per intenditori il kenner spiel quindi per tutti coloro che già giocano che già conoscono i vincitori dello spiel degli ultimi anni e vogliono fare quel passetto in più e ovviamente premio dedicato al miglior gioco dell'anno in terra germanica pensato come sempre un gioco per famiglia un gioco che sia adatto a tutti e che dia la possibilità a quante più persone tramite quel gioco di appassionarsi e di poi iniziare il loro viaggio all'interno del del mondo del del gioco auguri a nonna Irene 40 e non sentirli nonna Irene sì perché nonna Irene non ne sente probabilmente 23 considerando quanto è ginnica quella donna io che 40 non li ho ancora e non li faccio ancora neanche questa settimana ma andremo a sentircene almeno un'ottantina probabilmente ciao Marco buongiorno buongiorno anche a te e allora andiamo a scoprire assieme per chi non c'era ieri e per chi magari ha vissuto sotto un sasso da ieri a quest'oggi a scoprire quali sono quindi i tre titoli che hanno vinto ed eccolo qua il trittico nelle tre categorie come miglior gioco per bambini ha vinto il castello magico quale era dei tre quello che io dicevo avrei giocato più volentieri non non conoscendone nessuno dei tre per quanto io davo il mio voto la mia idea era che potesse vincere taco micio pizza ovvero la versione per bambini di taco gatto capra cacio pizza ma invece il castello magico questo gioco con queste chiavi che vanno ad aprire questo forziere ma non tutte quante in realtà lo vanno ad aprire con questo gimmick plasticoso come l'hanno definito anche ieri durante la live invece ha sbaragliato la concorrenza appunto di taco micio pizza e anche di glösskline eldestein le piccole grandi gemme gioco di wolfgang varsio questo gioco è un gioco di push or luck nel quale lanciando dei dadi potremo avanzare lungo il percorso più avanzeremo migliori saranno le chiavi che potremo prendere che ci permetteranno se la chiave apre di raccogliere più gemme dal forziere scopo del gioco però quello di raccoglierne più di tutti quanti gli altri ma come dicevo push or luck perché lanciando i dadi potrebbe anche capitare di sballare se escono troppe facce di dado con il disegno dell'addormentamento e in quel caso allora la pedina rimarrà ferma e sarà il giocatore dopo di noi che potrà beneficiare di tutti i passi in avanti che abbiamo fatto quindi mi fermo o provo ad andare ancora avanti nella speranza di trovare una chiave migliore e se per caso la chiave che prendo non apre il forziere nessun problema quella chiave comunque me la potrò conservare per usarla per fare dei reroll aggiuntivi nei turni successivi schussel vuol dire chiave non castello chiedo scusa grazie mille lupigio il mio tedesco come vedete zoppica è vero lo schluss e il castello grazie mille per la precisazione comunque le chiavi magiche però c'è anche un castello sullo sfondo perché noi queste chiave le usiamo nel viaggio al castello per aprire baure quindi diamo anche un po così di dio onore anche al castello che fa da sfondo alla bellissima scatola i meravigliosi componenti e 40 non sentirmi cosa 40 non sentirmi come esatto in quel caso non si sente proprio più più niente da da una certa età in avanti ciao cyber quest ben arrivato e sono giovane non so che cosa dico e nella categoria kennarspiel quindi gioco per per intenditori come si dice la chiave del castello di di schussel der schloss non lo so chiedo scusa non ne ho la più pallida idea mentre nella categoria gioco per esperti vince i mission che è la versione tedesca di daybreak che è stato tradotto in germania con i mission così giudici hanno anche potuto dire e voi dite che noi tedeschi non abbiamo senso dell'umorismo guardate che bel titolo che abbiamo trovato effettivamente è un bellissimo titolo per quanto mi riguarda questo gioco di parole sulle emissioni la missione energia è molto molto bello dico mi piacerebbe che in un'eventuale edizione italiana perché di i mission daybreak non c'è ancora l'annuncio di un'edizione italiana per quanto voci di corridoio dicano aspettate perché sia in trattativa potrebbe arrivare presto e quindi rimaniamo con le antenne dritte ovviamente su next vi daremo notizia di questa cosa quando ci sarà ufficialità di questo rumor di questo annuncio mi piacerebbe che anche in italiano rimanesse i mission perché comunque gioca molto su questo emissione missione green missione per l'energia per quanto poi in italiano potrebbe come dice anche qualcuno ieri in chat soffrire un po della di evacuation che è diventato poi exodus gioco di localizzato poi da tesla perché in realtà poteva sembrare forse un po così un po fraintendibile come come titolo e genitivo niente non ne la posso fare allora e cartoffel anche quello nel dubbio le patate ci stanno sempre bene come accompagnamento a qualsiasi pietanza e Mario non ha detto di aspettare a prendere lo straniero che lo distribuiscono in italiano allora Mario ieri in chat diceva questa cosa poi chi lo fa chi lo localizzi non si sa ma diciamo che chiaramente titoli che vincono un premio così importante e facile che poi vedano la luce magari ci vorrà del tempo come per Dorf Romantic vincitore dello scorso anno dello Spiel che è arrivato in questi giorni proprio in lingua italiana quindi c'è voluto praticamente un anno però magari anche e mission barra daybreak lo troveremo anche in italiano che è questo gioco collaborativo in cui i giocatori sono le grandi potenze mondiali gli stati uniti l'europa la cina che devono collaborare tra di loro per iniziare a creare dei progetti che permettano di ridurre le emissioni inquinanti per evitare che ci sia un innalzamento delle temperature quindi la tematica ambientalistica della crisi climatica così attuale così importante e ricordo che tra l'altro è anche lo stesso argomento quello della crisi ambientale creata dall'uomo e l'argomento centrale su cui quest'anno ruoteranno tutti quanti i racconti che verranno presentati a corti in gioco e se volete cimentarvi siete ancora in tempo ve lo ve lo ricordo se volete creare il vostro racconto a bivi basato su una crisi ambientale creata causata dall'uomo i mission nella stessa appunto ambientazione ci porta quindi a vivere un'emergenza reale attuale contemporanea traslandola su un gioco che ha detta anche della giuria ieri durante la consegna del premio è un gioco molto divertente quindi il fan il divertimento rimane comunque al centro del del gioco per quanto tutti quanti i progetti le carte che noi giocheremo o come progetti o come risorse per riuscire a sviluppare i nostri progetti o quelli dei dei giocatori che stanno giocando insieme a noi dicevo hanno tutti quanti sopra dei qr che rimandano a dei siti comunque delle pagine dedicate sulle reali appunto progetti reali attività che vengono fatte per evitare appunto che questo innalzamento delle temperature continui e il cambiamento climatico continui su questa terribile china sulla quale si è si è avviato quindi i mission vince tra l'altro superando la gilda dei mercanti esploratori e ticket to ride legacy leggende del vecchio west che erano gli altri due candidati esatto daniele purtroppo cheat intanto ciao andre ciao bucks ben ben arrivati invece nella categoria miglior gioco dell'anno per quanto mi riguarda un po a sorpresa vince sky team che batte capitan flip sulle tracce di darwin non perché sky team non sia uno dei giochi più belli dell'anno senza ombra di dubbio anche per quanto mi riguarda l'ho già detto l'ho già ribadito è uno dei giochi che più mi sono piaciuti in quest'anno e quindi meritatissimamente vince il premio ma un po a sorpresa io non ci avrei scommesso mentre in mission l'avevo preso anche con il mio pronostico non avevo scommesso non avevo fatto il mio pronostico su sky team perché un gioco per soli due giocatori ed è il primo gioco per soli due giocatori che vince il che vince lo spiel in qualsiasi categoria ciao roba e grazie mille per il tuo abbonamento grazie davvero e lo suol dire che stello ma anche serraturo che abbiamo perso lupigio con le etimologie delle parole tedesche ma è il caldo e anche l'età cioè perché anche lupigio i suoi 25 anni li sente li sente tutti quanti io appunto daniele dice io ho optato per sky team nonostante il cuore mi dicesse capitan flip io ero convinto invece che capitan flip potesse spuntarla non solo per il tifo campanilistico dato che il gioco è di due autori italiani remo con zadori e paolo mori che abbiamo visto anche ieri e un remo emozionatissimo sul palco un paolo mori che invece super spigliato ha raccontato anche della retroscena del gioco tra cui il fatto che all'inizio il gioco è su un'ambientazione fantascientifica e non a tema pirati mentre sky team vince sicuramente merita tantissimo perché come dicevo questo gioco collaborativo per soli due giocatori che già ha avuto un grandissimo riscontro anche da parte del pubblico qua in italia in quanto il gioco è attualmente esaurito c'è la ristampa che ritornerà per settembre quindi nel caso non l'abbiate ancora attivate la campanella c'è già il preordine aperto anche su dungeon dice nel caso recuperatelo perché per quanto mi riguarda è davvero un gioco molto molto valido che trascenderà gli anni e si parlerà ancora di sky team tra un sacco di anni ma d'altronde come di tutti quanti i vincitori dello dello spiel desiares e in questo sky team noi siamo appunto due giocatori pilota e copilota che nella cabina di pilotaggio devono far atterrare l'aereo ci saranno varie piste su cui atterrare a livelli crescenti di difficoltà e dovremo lanciati i nostri dadi posizionarli in base ai loro valori sulla plancia comune e ci saranno alcuni spazi riservati al pilota alcuni riservati al copilota e dovremo fare tutte quante le procedure di atterraggio quindi ridurre la nostra velocità per arrivare precisi sopra l'aeroporto aprire i flap estrarre il carrello liberare tutta quanta la pista di atterraggio comunicando con la comunicando con la torre di controllo che ci stiamo avvicinando e quindi togliere altri aeroplani che sono sulla nostra traiettoria e riuscire a frenare in tempo per evitare di schiantarci la cosa meravigliosa del gioco è che gli ha valso poi la vittoria e che il gioco parte da primi livelli molto semplici molto lineari con i quali si inizia comunque a capire come e cosa come fare a collaborare tra i giocatori perché nota fondamentale che i due giocatori una volta lanciati i dadi non possono più parlarsi quindi non possono dirsi ah ma io ho quello tu hai quello allora facciamo così non non lo si può fare bisogna con i nostri piazzamenti lasciare intuire all'altro che cosa abbiamo che cosa faremo oppure se vogliamo che l'altro ci dia delle informazioni prima che noi posizioniamo un dado sul cablaggio calibraggio insomma sul tenere l'aereo in così dritto no cioè fare le virate un po di qua un po di là e era una scusa per alzare le ascelle intanto asciugarmele e quindi scusate sono scemo noi appunto non potremmo parlare e avremo questi vari livelli di difficoltà crescente che vanno ad introdurre man mano nuove meccaniche ci potrà essere quindi anche degli assistenti che abbiamo da tutorare a cui dovremo insegnare come si fa mentre andiamo avanti potremmo avere la benzina anche da dover tenere sotto controllo insomma ci saranno via via sempre più difficoltà sempre maggiori se c'è il vento che ci va in coda insomma casini vari da dover riuscire a collaborando superare quindi assolutamente assolutamente meritata la la vittoria di sky team e questo è il trittico che ieri ha visto quindi vincerissimo mente vincere non perché invento parole quest'oggi portate pazienza ha visto trionfare in quello di berlino e sai che ridere se si vinto darwin ridere perché si tutti quanti diciamo a sky team capitan flip e darwin l'ha lasciato un po da parte io darwin non l'ho ancora giocato ce l'ho in programma di provarlo questa estate perché ho visto che al giocaosta c'è in ludoteca e quindi assolutamente lo vorrò giocare perché a me ispira tantissimo sento da quello che ho visto ho letto le regole ho visto dei tutorial ho visto dei video sul gioco ed è un gioco che è perfettamente nelle mie corde anche quello arrivasse localizzato non mi dispiacerebbe onestamente anche perché poi hanno già anche annunciato una sorta di sequel che sulle tracce di marie curie dopo sulle tracce di darwin ne avevamo parlato in next un po di tempo fa e quindi c'è comunque un gioco che poi è arrivato in finale alla sdor è arrivato in finale allo spiel e sicuramente un gioco valido è per essere nominato in così tanti premi poi magari c'è sempre stato quel qualcosa che gli è passato davanti per un motivo per un altro per un'ambientazione più sentita per una peculiarità maggiore magari in qualche parte del gameplay però sicuramente un titolo assolutamente valido e sembra che si stia preferendo giochi collaborativi lo scorso anno dorf ora sky team in realtà già anche in anni precedenti avevano vinto dei collaborativi ha vinto micro macro per esempio ha vinto just one altro altro gioco collaborativo nella categoria appunto kenner in realtà ha vinto sì anche lì no sto dicendo una cazzata scusate anche lì ha vinto un collaborativo sì il collaborativo ha probabilmente nell'ottica del stavo per dirvi in mission che è un competitivo invece è una sua etichetta che è collaborativo l'esatto opposto sono ho bisogno di queste vacanze capite perché andiamo in pausa ragazzi la diciamo sicuramente i collaborativi hanno dal lato del grande pregio per essere pensati come giochi per introdurre nuove persone che la persona magari che è un po più timida un po più titubante che magari ha paura giocando di sbagliare di fare una brutta figura giocando un gioco collaborativo abbatti un pochino questa barriera e l'inclusione al tavolo viene sicuramente premiata quindi ci sta viste le finalità del premio che vengano che vengano selezionati giochi giochi collaborativi e piaciuti molto i vincitori di quest'anno sì sì ma io anche sono sono molto molto d'accordo con con la scelta servirebbe del polasa sì in effetti guarda l'ho comprato ieri quindi ce l'ho anche il polasa potrebbe no c'è un supra di in realtà ma c'è la stessa roba però e potrebbe essere interessantissimo giorgio difficile contestare la selezione nel caso è naturale riferendosi a darwin battuta molto bella che è passata un po sottovalutata giorgio in chat sappi che io l'ho letta e l'ho apprezzata tantissimo ma andiamo avanti andiamo a parlare un po di annunci che ci sono stati in quest'ultima settimana in realtà perché get on games ci ha sganciato l'annuncio che a settembre quindi in tempo record arriverà un arriverà questa localizzazione di artico gioco della ludonaut gioco francese che io proprio qua davanti a me nella sua versione francese in realtà perché quella italiana ancora non esiste fondamentalmente però grazie mille a get on games perché così ho già avuto modo di provarlo per potervene parlare al meglio quest'oggi intanto ber mi fa una domanda su sky team ci vuole la compagnia giusta per apprezzarlo ma in realtà lo gioco solo da due quindi la compagnia è l'altro giocatore io l'ho ti dico l'ho giocato beh oltre che con vale mi è capitato di giocarlo con amici l'ho giocato con mio fratello e comunque ha sempre riscosso un gran successo ieri sera appunto a cena dopo per il complesso di mia mamma dopo la live il fratello fa allora chi ha vinto il premio hanno vinto gli italiani come è andato e gli ho detto ah ma guarda il gioco dell'anno ha vinto quello lì dell'aereo che sei pilota e copilota oh che figo mi è piaciuto un sacco anche a me quindi il mio fratello è stato super contento di questa di questa vittoria e secondo me è un gioco anche ricadendo nello spiel lo commentavamo anche ieri per quanto con i livelli avanzati diventi un gioco molto strutturato da kenner spiel in realtà nei suoi primi livelli è decisamente un gioco adatto a tutti secondo me secondo me non è un collaborativo che ha così tanto bisogno del gruppo giusto comunque di essere le persone giuste perché anche tutto il fatto che c'è questa comunicazione limitata all'interno del gioco secondo me permette anche al giocatore alfa di non presentarsi quindi in realtà in realtà decisamente adatto a tutti quanti secondo me ma ritornando a parlare di artico questa localizzazione che viene fatta in tempo record perché annunciato questa settimana e a settembre già lo troveremo in tutti quanti i migliori negozi arriva artico come vedete scatolettina piccolina non minuscola ma comunque piccolina ciao chris ben arrivato grazie mille e grazie anche a lidia grazie lidia ho visto il tuo messaggio l'artico appunto arriverà e questo gioco nel quale noi dovremo mi manca la o infatti sulla versione francese hanno risparmiato hanno risparmiato sulle lettere ciao terraliccio grazie mille per il tuo abbonamento sky team devi ancora provarlo bene allora ci sarà a maggior ragione vista anche la vittoria dello spiel di recuperarlo e assolutamente io vi ricordo anche di preordinarlo su dungeon dice perché attivo il preordine come dicevo la prima tiratura è andata sold out in frettissima e non perdetevi l'occasione di recuperarlo presto come dice marco infatti la cover dà un sacco senso di freschezza perché noi nel gioco siamo inaspettatamente a sorpresa ci troviamo nel circolo polare artico pensa a te e vediamo bianco bianco solo bianco grazie mille intanto al link che è arrivato direttamente in chat da parte dello staff e grazie a tutto quanto lo staff che lavora dietro le quinte voi non li vedete ma c'è gente che si deve sorbire io che blattero per due ore controllare prendere questi video ricaricarli su youtube assicurarsi che tutto funziona meglio mandarvi i link è decisamente bello a livello di gameplay bear come funziona noi avremo questa situazione di setup all'inizio della partita e andremo a fare punti in tre modi fondamentalmente nel corso della nostra partita sarà un gioco di gestione mano noi avremo una mano di carte animale ci sono i vari animaletti che sono presenti all'interno del gioco i sei animali che ci sono c'è oltre l'orso polare abbiamo la volpina abbiamo il tipo pappagallo abbiamo l'alce abbiamo l'orca e dovremo ognuno di noi avrà innanzitutto uno di questi animali segreto che ce l'ha solo lui e che dobbiamo cercare di mettere nella posizione migliore inoltre avremo questa nostra mano di carte e queste carte noi le andremo a giocare davanti a noi in una nostra pila a ogni turno però la carta ci darà varie informazioni innanzitutto ci dirà quel numero lì sulla sinistra per esempio se io nella mia pila in cima ho questa bellissima volpina artica sono un po' carabiniere un po' badanti con me decisamente badanti fondamentalmente anzi esempio se noi dicevo abbiamo questa volpina nella pila davanti a noi nel nostro turno la prima cosa che dobbiamo fare sarà giocare nella nostra pila tante carte quanto indicato qua quindi quattro carte in questo caso che mettiamo giù nell'ordine che vogliamo noi la quarta carta quella che resterà in cima ci darà allora a quel punto un'altra indicazione ovvero quei due simboletti lassù in alto che sono l'animale principale e l'animale secondario che noi dobbiamo andare a muovere su il tracciato che qua vedete qua in mezzo questo bellissimo paesaggio artico che vedete qua un po' nella parte alta con sopra quei gettoni noi ne sposteremo uno avanti e uno indietro le illustrazioni ricordano un po' origami si hanno un po' questo stile un po' come si dice tipo scalpellato non so come dire hanno un po' queste linee un po' un po' dritte però si sente fresco decisamente quindi dicevo noi a seconda appunto del nostro a seconda dell'animale prismatico grazie mille Marco che trovi i termini belli ecco vi faccio vedere qua anche l'orsetto per esempio così le passiamo tutte quante qua abbiamo la volpina un'altra volpina un'altra volpina la foca e qua hanno il tricheco scusate non la foca i trichechi fanno sempre molto molto ridere con questi baffoni che hanno qua abbiamo il tipo pinguino del si ho detto pappagallo in realtà è palesemente un pinguino la volpina l'orca eccola qua che salutiamo l'alce e abbiamo anche ancora l'orsetto l'abbiamo visto aspetta ci dovrebbe essere ancora il no li abbiamo visti tutti li abbiamo visti tutti mi sa si si li abbiamo visti tutti comunque tutte quante molto belle e poligonale poligonale via di denuncia per plagiografico ecco Christian vedi che si fa subito sentire quando si nomina uno dei suoi giochi si fa si fa subito sentire si si ve li ho ve li ho fatti vedere tutti quanti gli animaletti molto carini dicevo noi quindi dobbiamo giocare carte nella pila pari a quel numero che c'è lì quel 4 in questo caso è una pulcinella di mare potrebbe essere Marco io ora mi mi allora vado a vedere se sul regolamento c'è scritto il se sul regolamento c'è scritto quale animale è così vi do l'informazione corretta e non diciate che non sono preciso ecco allora sei segnalini animale lato animale lato impronta sei carte potere no non c'è scritto almeno non c'è scritto sulla no ma c'è scritto qua al fondo spesso pulcinella di mare grande Marco numero 1 trichecco pulcinella di mare orso polare orca alce volpe artica complimenti complimenti Marco per l'ottima design si vede che sei un biologo palesemente un pinguino dire di no allora io per me un pinguino se con la pulcinella di mare si sente un pinguino chi siamo noi per per dire di no cioè non ragazzi era una pulcinella di mare bravissimo Marco per la per la precisazione dicevamo devo giocare carte nella mia pila poi muovere i due segnalini sul tracciato uno avanti uno indietro cercando di favorire il mio ma senza essere troppo palese perché altrimenti gli altri me lo spostaranno indietro e poi alla fine del mio turno pescare il numero di carte indicato in alto però che succede nel corso della partita succede che io potrei trovarmi senza sufficienti carte da mettere nella pila e in quel caso dovrò prendere delle carte coperte dal mazzo che mi vanno in una pila delle penalità oppure trovarmi alla fine del mio turno pescare più carte di quante ne posso conservare in mano e anche in quel caso l'eccedenza mi andrà a fare punti negativi quindi la gestione di questo aspetto di quante ne gioco quante ne pesco lasciando in cima al mazzo la carta che mi interessa per avere poi nel round successivo sufficiente pesca sufficiente carte da mettere giù e allo stesso tempo prima ho nominato le carte potere perché queste sei carte che vedete qua sono sei carte potere fronte e retro quindi in realtà avete un sacco di variabilità perché in ogni partita potete mettere un potere diverso che se la carta che voi avete lasciato in cima al mazzo dopo che ne avete giocate una due tre quattro cinque e un alce allora prenderete la carta potere dell'alce se ancora nella zona comune la prendete se c'era un altro giocatore gliela rubate e da quel momento in avanti finché voi avete quella carta lì davanti a voi avete delle abilità aggiuntive che vi permettono di modificare quante carte giocare quante carte pescare magari poter pescare anche carte dal mazzo poter rifillare il display a ogni carta presa e non soltanto alla fine poter muovere di più magari i tassellini sul anziché di uno spazio magari di due i tassellini sul percorso lassù in alto e in questo modo avete quindi la possibilità di sfruttare anche questi poteri e come si fanno i punti in tutto questo perché spiegato come si gioca come si fanno i punti i punti si fanno vi dicevo in tre modi il primo modo già l'avete intuito ognuno di voi associato un animale diverso e in base alla posizione che quel segnalino animale avrà nel paesaggio potrà fare da 0 a 15 punti ovviamente secondo del della posizione che quella tesserina sta occupando il secondo modo ricorda vagamente birdie perché noi andremo a prendere la pila di animali che abbiamo giocato nella nostra pila uno sopra l'altro e andremo a creare i set di animali uguali che abbiamo all'interno del nostro mazzo per ogni animale cercheremo il set più lungo e pari al quantitativo di carte che compongono quel set faremo punti in base a quante carte abbiamo con una carta niente non conta neanche il set con due carte zero punti con tre carte tre punti e via a crescere fino a sei o più carte che danno 15 punti inoltre conteremo quanti animali diversi siamo riusciti a conteggiare nella nostra pila e anche in quel caso quindi gli animali singoli non li abbiamo conteggiati non li possiamo conteggiare seconda di 4 5 6 animali diversi siamo riusciti a conteggiare anche quelli ci danno punti e via di seconda denuncia perché non solo le illustrazioni ricordano origami ma la nostra pila degli animali è il crearci dei set di animali uguali e palesemente birdie sempre di getton games non hanno a differenza di origami che di dv game mai del del buon christian ma in realtà poi il feeling mentre lo si gioca è molto diverso è assolutamente rispetto birdie anche perché noi le carte nella nostra pila le possiamo sempre guardare quindi non c'è assolutamente l'aspetto di memoria in più si vanno ad aggiungere quindi i poteri degli animali e le scelte che quindi faremo di giocare le carte sarà le voglio giocare in quest'ordine per aumentare il set oppure voglio interromperlo mettere sopra questa perché voglio questo potere o magari voglio togliere questo potere a uno degli altri giocatori la carta che lascio in cima mi serve non solo per il potere non solo per crearmi il set ma mi serve anche per muovere i segnalini sulla sul paesaggio artico e io magari voglio muovere il mio ho capito qual è quello del mio avversario di uno dei miei avversari voglio muovere quello per tirarglielo indietro perché ce l'ha già sui 15 punti insomma sono tantissime le scelte che ci dà nell'ordine in cui noi giocheremo le carte soprattutto lasceremo la carta in della carta che lasceremo in cima perché poi ci farà pescare alla fine di quel turno e ci dirà quante carte potremo giocare nel turno successivo e noi vorremmo sempre magari avere una che ci dice puoi giocare tante carte se ne ho tante in mano perché altrimenti sono punti negativi ma poi quelle che fanno giocare tanto fanno pescare poco e se io ne gioco giù una che mi dice giocare 5 ma ora ne pesco solo una e è facile rimanere interdetti oppure magari ne gioco 5 ma al turno poi ne pesco solo una c'ho solo due carte rischio veramente di rimanere incartato e di prendermi un e di prendermi poi un sacco di di penalità grazie Raffa Cipu per il tuo abbonamento e la meccanica delle carte sembra interessante da provare come risulta il conteggio dei punti in realtà il conteggio dei punti è molto molto lineare è assolutamente vabbè a parte che avete il blocchettino per segnarvi i punti quindi in realtà è molto molto comodo però in realtà è semplice intanto vi prenderete poi la vostra pila la aprite e dite ok c'ho 5 trichechi c'ho 3 pulcinelle di mare perché palesemente erano pulcinelle di mare c'ho 4 volpi c'ho solo un'orca quindi quelle non le posso conteggiare e qua ho altri due pulcinelle di mare ma le ho già conteggiate non le posso più contare e fine hai capito carte beh quello era il fulcro del gioco perché di base è comunque un gioco di carte con poteri asimmetrici che i giocatori possono ottenere nel quale la gestione della nostra mano è data proprio dall'ordine in cui giocheremo le carte nella pila che non deve essere solo quello del cerco di fare quanti più punti possibile altrimenti poi ne sto perdendo troppi perché va a finire che mi becco un sacco di penalità intendevo come soddisfazione di fare punti ma il blocchetto segna punti è sempre apprezzato ok perfetto quindi marco da 12 punti si 12 punti che bello e no no c'è no noi ti dico io però l'abbiamo provato solo io e vale in due giocatori e da una bella soddisfazione comunque il gioco ti senti sempre bene sul pezzo e fino all'ultimo non sai chi ha vinto comunque fino che non vai a contare i punti quindi questo questo anche molto molto interessante piccolo ma sembra abbastanza varie ma è già possibile visionare nel dettaglio il regolamento bear non credo non penso che ci sia online anche perché il gioco penso che sia uscito da pochissimo in francia non so se in francia è già in release ma in italia arriva a settembre quindi davvero manca manca pochissimo tempo di tornare dalle vacanze e artico sarà sarà disponibile come sempre il regolamento italiano verrà pubblicato in prossimità dell'uscita quindi a settembre ci sarà la la possibilità di divisionarlo e comunque appunto dicevo arriverà a settembre quindi a settembre assolutamente ne parleremo ancora tra l'altro segnalino del primo giocatore che questa impronta nella neve di questo ungulato perché ora che non ho riconosciuto la pulcina di mare devo dire dei termini un po' da biologia anch'io un po' da scienze naturali e quindi andremo a scoprire la domanda che ha da alberto8n sì dimmi bear penso che sia un domanda per alberto che poi però ti è partito il t9 a caso il t9 vi ricordate il t9 che noi che siamo diversamente giovani movimento super quark esatto quindi fatte la musichetta di super quark che ovviamente questo momento non mi viene in mente la sonata in re maggiore per arpa di super quark quanti ricordi no ma bear probabilmente non aveva niente da chiedermi era solo un così un gatto che passava sulla sulla tastiera io volevo aspettare la sua domanda prima di andare oltre perché hanno anche sganciato da get on games un'altra bomba non indifferente ovvero la localizzazione di fog of love domando che ad alberto non fregandole ma che ad altri sì carte con bustine entrano nella scatola non lo so perché allora io adesso come vi dicevo questa copia così raccattata in giro credo che la scatola avrà anche un inserto non so se entrare entrano ma le bustine sono cioè le carte sono le standard 63.5 per 38 come che è insomma carta standard dimensione carta di magic questa proprio quindi le bustine esistono sì sì assolutamente quindi sì elio fog of love preordere istantaneo appena visto ci speravo da anni elio che tanto mi ha addirittura scritto per dirvi hai visto il fog of love c'è anche il preordine scontato detto sì ho visto su tete lunedì ne parliamo e infatti fog of love vi avviso che se andate su dungeon dice punto it sul nostro sito potete preordinarlo con un bello sconticione del 20 per cento ovvero togliervi 10 euro tondi tondi dal vostro preordine e quindi nel caso vostri interessati beh non perdete l'occasione tra l'altro tra l'altro cosa molto bello il gioco è fog of love nebbia d'amore gioco del 2017 mi ricordo perfettamente l'anno in cui uscì perché mi ricordo benissimo lo stand a essen di fog of love con tutti questi palloncini rosa azzurri a forma di cuore e il fatto che non si riuscisse a provare il gioco in nessun modo gioco per cui ho sempre avuto tantissima curiosità ma che visto che un gioco fortemente dipendente dalla lingua e che mai è stato localizzato in italiano non ho mai avuto modo di di provare ma adesso fortunatamente ce l'avrò anche perché un gioco per due per chi gioca in coppia diciamo principalmente e secondo me un must have perché nel gioco noi andremo a vivere simulare diciamo così una storia d'amore ma attenzione se lo giochiamo io e vale non siamo io e vale i protagonisti della storia che andremo a creare ma saremo due personaggi che creeremo un po a mod di role playing che creeremo apposta per la partita bear non hai visto male ci sono diverse versioni in preordine perché siccome il gioco vuole essere quanto più possibile inclusivo potrete scegliervi la cover che vorrete il gioco all'interno non cambia ovviamente i materiali sono sempre quelli il flusso di gioco le meccaniche il gameplay sono sempre le stesse ma potrete scegliere la cover che più vorrete con due uomini due donne un uomo una donna perché love is love anche in mezzo alla fog of love is love quindi ricordiamoci assolutamente questa questa opzione e quindi bellissimo che anche per l'italia abbiano già subito pensato le tre possibili cover alternative e sto provando a smettere con le bustine iniziato con vario vedrò come va bravo vedrai che andrà bene vedrai che andrà bene ma per tutti coloro che imbustano assolutamente andatevi a prendere tutte le bustine di cui avete bisogno su dungeon dice ci mancherebbe un gioco aperto tutti assolutamente sì decisamente sì e come vi dicevo un gioco nel quale noi andremo a interpretare un personaggio non è che se io gioco con daniele siamo io e daniele che ci dobbiamo innamorare o vivere in qualche modo la nostra storia d'amore che poi non è detto che finisca con l'innamorarsi e il viscero per sempre felice e contenti ma potrebbe anche finire con una rottura tra di noi e assolutamente capire che ognuno possa prendere la sua strada ma noi andiamo a interpretare dei ruoli io potrei anche interpretare quindi un personaggio femminile un personaggio maschile a mia scelta ok questa cosa e soprattutto riceveremo una carta l'unico problema è che annunciato luglio uscirà ad aprile ovviamente è una localizzazione che non è fatta in tempi di record come quella di artico ma perché è un gioco che proprio per la sua complessità anche per la sua quantità di carte anche da tradurre e per far sì che tutto quanto il lavoro sia fatto nel modo più inclusivo possibile sia fatto nel miglior modo possibile è anche stata proprio presa una squadra appositamente per lavorare sulla traduzione di fog of love diciamo allora non posso giocarci con marco perché perché anche se vi amate potete fare la vostra partita fog of love semplicemente non sarete luca e marco ma sarete magari un medico e uno psicologo sarete un pompiere un artista sarete un attore e una maestra ok come a seconda della carta personaggio che vi arriva ricevuto quindi chi siete ok io sono magari uno psicologo in questa partita allora l'altro giocatore che gioca con me dovrà darmi delle carte caratteristica che sono i caratteri che l'hanno maggiormente colpito di me che cosa ti ha colpito di me ok magari dici a un psicologo mi piace molto il modo in cui ti vesti mi piace il tuo sorriso mi piace il tuo fisico mi piace il modo in cui parli mi piace il tuo carisma ok insomma possono essere delle categorie così che vengono una e poi l'altra dai due giocatori date al nostro partner di questa partita in base a cosa secondo noi una maestra uno psicologo un vigile del fuoco possa avere di attrattivo nei nostri confronti e non ha preso alberto anche se in carottiere io sono in camicia quindi sono invidioso e sì esatto caratteristica mi piace a match no quantità di testi importante saranno seguiti da un sensitivity reader perché siano assolutamente inclusivi quindi ottimo davvero visto anche che mario condiviso i nomi della squadra di traduttori appositamente ingaggiata per questo progetto e quindi meglio prendersi qualche tempo in più per fare un lavoro fatto bene ma anche perché come dicevo prima il gioco è del 2017 abbiamo aspettato fino al 2024 ma chissene se devo aspettare ancora altri sei mesi l'importante è quando finalmente avrò la possibilità di giocare a fog of love in italiano l'esperienza sia quanto più bella possibile ma infatti bravo elio ci abbiamo aspettato tanto aspettiamo ancora un po cioè chissene no e quindi dicevo la base del gioco sarà questa quindi creeremo il nostro personaggio uomo donna che sia del genere che vogliamo noi riceveremo sceglieremo prenderemo la nostra professione diciamo e l'altro giocatore dirà che cosa gli è piaciuto di noi queste carte che riceviamo con i nostri iniziali appunto le nostre caratteristiche iniziali ci daranno tra l'altro già anche dei nostri obiettivi che dovremo cercare di risolvere perché noi partiamo appunto da questa situazione non è questo come vi dicevo quasi role playing nel creare i nostri personaggi e poi questi due personaggi li dovremo fare interagire vedete ci sono queste bustine all'interno della scatola non vi preoccupate non c'è niente di legacy non c'è niente di non rigiocabile non è un one shot e tutto quanto assolutamente rigiocabile perché lo stesso scenario voi lo potete giocare impersonificando personaggi diversi e quindi trovarvi a fare una partita completamente diversa ok quindi su questo non vi preoccupate semplicemente queste bustine sono all'interno del del gioco all'interno della scatola perché consiglia diciamoci appunto di seguire un ordine di queste di queste avventure di questi appuntamenti che noi faremo nel corso della partita delle varie partite perché ci daranno la possibilità di affrontare diverse situazioni come coppia ok partendo dalla prima che quasi il tutorial chiamiamolo così del gioco in cui siamo al nostro primo appuntamento ok quindi partiremo da cosa facciamo questa sera e tutto quanto il flusso di gioco si baserà appunto verrà svolto su questa plancia che vi ingrandisco un pochino su questa plancia che sarà tra i due giocatori vedete il giocatore azzurro il giocatore rosa che saranno seduti i due lati opposti del del tabellone noi avremo quindi qua queste cartine piccole che vedete avremo la nostra professione le nostre tre caratteristiche che l'altro giocatore ci ha consegnato avremo poi dei nostri obiettivi privati che l'altro giocatore non vedrà che saranno su questo su questo stand e dicevo come si sviluppa il gioco il gioco durerà una serie di round che cambiano a seconda del a seconda dello scenario che stiamo giocando quindi della tipologia di appuntamento e noi partiamo appunto magari dal primo scenario quello tutorial del nostro primo appuntamento e la prima cosa da fare sarà ok cosa scegliete come primo appuntamento volete andare al ristorante volete andare al karaoke oppure volete andare a vedere un film al cinema e da queste tre opzioni chiaramente c'è tutta quanta la parte introduttiva narrativa diciamo che ci presenta che ci presenta appunto la nostra il nostro approccio però diciamo siamo queste due persone questo psicologo e questo vigile del fuoco che si sono incontrati e che scelgono appunto sono scambiati due chiacchiere due parole usciamo assieme dai cosa facciamo grazie l'enders cosa facciamo abbiamo queste tre opzioni vedete che noi abbiamo questo giochettoncino uno con una b uno con una c davanti a noi perché noi simultaneamente mettiamo giù coperta la scelta che abbiamo fatto e poi la riveliamo e a seconda che abbiamo fatto la stessa scelta o due scelte diverse la carta ci dirà in che modo proseguire e nel corso della partita noi andremo a mettere in base appunto alle scelte che faremo andremo ad aggiungere dei nostri gettoni su questi sei aspetti della nostra vita della nostra relazione che sono ne so la creatività la puntualità la insomma vari aspetti del nostro carattere ma anche proprio della nostra relazione come si sta evolvendo tutto questo non dimenticatevi che è a corollario di un gioco da tavolo vero e proprio con le sue meccaniche i suoi modi per vincere o perdere il gioco è chiaramente collaborativo ma in realtà è quasi semi collaborativo perché è molto particolare come gioco quindi anche spiegarvelo senza avere il gioco davanti e senza averlo mai giocato ancora è complicato ma spero di farvi capire al meglio il mood di questo gioco che poi è l'aspetto veramente veramente figo di questo gioco noi andremo appunto secondo delle nostre scelte secondo anche delle nostre caratteristiche iniziali a mettere quindi di questi gettoni sulla su questi vari aspetti della nostra relazione dopo che avremo appunto scelto che cosa fare il gioco sembra più un gioco per rimorchiare ma assolutamente no magnex ma anche perché come ti dicevo lo possiamo giocare io e te che magari non abbiamo nessun interesse sentimentale o attrattivo nei confronti l'uno dell'altra almeno parlo per te perché io da quello che ho conosciuto a play devo ammettere che un attimino ho vacillato in questo gioco appunto non non è tanto un rimorchio perché l'altro non sei te te stai interpretando un personaggio ok tu magari stai interpretando un personaggio che è quanto di più lontano c'è da te in quel momento ciao ciao ben ben giunto nessun problema abbiamo già parlato di artico prima quindi ti invito poi a recuperarti la live ora stiamo parlando di fog of love come diciamo appunto noi andremo a fatta questa prima scena pescare una nuova carta scena e poi aggiungeremo carte nelle nostre mani a seconda dello scenario che stiamo facendo da diverse tipologie di mazzetti che hanno proprio delle tematiche anche diverse e dopo sky team ecco un altro titolo must have per due giocatori secondo me sì erediti già di cui abbiamo parlato l'altra settimana quello io ce l'ho proprio incinissima ai giochi per cui ho un hype smisurato e che sto attendendo di più altro è questo decisamente giochi del prossimo anno ma questo proprio perché è nove anni sei nove cinque duemila e 4 4 v 3 7 anni che ne sento parlare e scusate non riesco a fare conti in fretta 7 anni che ne sento parlare che ho un sacco voglia di vedere questo gioco all'opera e meccanica così particolare originale che secondo me deve essere un must have per due ma assolutamente assolutamente sì e ma allora un mix tra gdt e gdr snì anche su questo la parte di gdr chiamiamola così quindi di role playing avviene tanto all'inizio ok della nostra partita quando andiamo a creare il nostro personaggio poi noi avremo dei nostri tratti personali ok avremo poi anche delle carte che potremmo giocare come segreto quindi metteremo dei segreti delle robe che non vogliamo condividere con l'altro giocatore ma tutte queste carte qua servono per fare punti in che modo noi faremo punti o meglio riusciremo a soddisfare i nostri obiettivi se e tra i nostri tratti e tra le carte che abbiamo messo giù come segreto e delle carte che comunque saranno in comune per entrambi i giocatori dovremo cercare di avere una certa tipologia di bilanciamento di questi tondini che mettiamo sopra e sotto questi vari aspetti della nostra relazione alcuni magari riguarderanno solo me non importa cosa faccia l'altro io magari vorrò avere più segnalini sopra che sotto con una differenza di almeno quattro segnalini nello slot arancione ok magari altri invece riguarderanno anche il mio compagno e però io magari non posso parlargliene apertamente dirgli oh guarda che devi mettere ancora tre segnalini qua ma con le nostre scelte con le carte che giocheremo con le opzioni che daranno le carte che sceglieremo di giocare arriveranno dobbiamo cercare di far quadrare le cose ok quindi secondo me l'aspetto gioco da tavolo lo sente tanto nel devo risolvere questa carta in questo modo ho bisogno di creare queste condizioni ma per creare queste condizioni devo anche far sì di giocare delle scene che l'altro giocatore in base alle caratteristiche che ha verosimilmente farà quella tipologia di scelta ok quindi devo cercare di capire l'altro come giocherà però anche l'altro avrà i suoi obiettivi avrà i suoi tratti avrà delle sue robe che io non so e quindi magari non sempre riusciremo a fare quello che ci serve che non sempre sarà fare la stessa scelta non sempre sarà essere sulla stessa lunghezza d'onda ok perché magari ci sarà ah siamo a cena assieme cosa come paghiamo alla romana vuoi pagare te vuoi che paghi l'altro che ne so no non è detto che fare la stessa scelta in quel caso sia la condizione migliore oppure siamo a passeggio per strada mi proponi di prendere un gelato mi canti una serenata davanti a tutti oppure io faccio questa roba tu come reagisci con imbarazzo ti metti a cantare con me mi dici ah ok grazie e la roba finisce lì anche con queste carte dove io creo una situazione a cui l'altro deve reagire a seconda di come l'altro sceglie di reagire avremo delle conseguenze che saranno dettate dal mettere questi tondini su questi spazi ok lo trovo veramente curioso paura però sia difficile proporlo a tutti molti non sono per interpretativo ma anche qua non è interpretativo ok è un casino spiegarlo solo parole questo gioco è un'esperienza che va giocata per quanto mi riguarda e proprio perché è talmente tanto diverso dal solito che poi io sono sicuro avrà un sacco di detrattori e questo gioco ci sarà chi lo gioca magari in mezza partita fa due round e poi lo boccia e dice è un gioco di merda sono sicuro che arriveranno mi li vedo già i post nei gruppi facebook di gente che fa due round e poi lo boccia proprio perché è un gioco tanto fuori dagli schemi e quindi va secondo me approcciato nel modo giusto che non è quello di è un gioco narrativo interpretativo è un gioco di ruolo perché non è quello se ti aspetti quello sì vieni deluso perché poi dici eh però poi devo mettere questi tondini bilanciarli per soddisfare i miei obiettivi allo stesso tempo se però lo gioco solo ed esclusivamente come un ho questi obiettivi da risolvere e metto i tondini dove mi servono ah gioco questa carta perché mi serve il tondino in quello spazio e in quel caso lì anche il gioco ha perso totalmente no perché non è solo quello è un è una roba nuova è un'esperienza è un gioco diverso è un gioco che poi all'estero ha già avuto un fracco di successo questo gioco ha già un sacco di espansioni anche perché come vi dicevo nel gioco noi abbiamo questo scenario iniziale con questi mazzetti di carte con queste scene che noi possiamo andare a proporre all'altro giocatore ma poi andiamo anche a prendere appunto questi nuovi tratti nuovi feature che possiamo avere man mano che andiamo ad aprire poi le altre buste che ribadisco non è una busta è una roba one shot è una roba legacy che poi non giocherò mai più ma anche perché è la stesso scenario giocato dalle stesse due persone che però impersonificano due personaggi diversi che quindi hanno dei tratti diversi fanno un lavoro diverso hanno degli obiettivi privati diversi cambia completamente il mood e il flusso della partita però poi ci troveremo a vivere magari anche delle situazioni che non sono più quello del primo appuntamento ma magari della convivenza ma magari della coppia sposata e magari all'inizio impersonifichiamo due 25 anni nell'ultima partita possiamo impersonificare due 65 anni ok anche questo aspetto lo rende una roba molto diversa dal solito secondo me ci vorrò un gameplay per vedere come gira aspetterò di giocare ma guarda la cioè io non vedo l'ora di giocare ma a prescindere poi dal giocare anche il primo appuntamento ah piacerebbe vedere te e vale infatti che poi non saremo io e vale cioè ok saremo altri due cioè io posso essere chi voglio fondamentalmente questo aspetto qua è molto figo poi sì un po' di aspetto interpretativo per chi ne parlava prima sicuramente è necessario un po' per rendere il gioco non arido ok non un ah ok metto il segnalino qui metti il segnalino lì gira un'altra carta ah ok scegliamo ho scelto ah ok allora metti il segnalino lì metti il segnalino là ma se la carta vi dice appunto quella che dicevo prima mi metto a farti una serenata in mezzo alla strada magari se sulla carta c'è anche il testo della canzone magari un minimo la interpreto no cioè l'idea del canto la canzone poi magari chiaro non è la finalità estrema del gioco quella di farti interpretare sto personaggio però boh mi sembra proprio tanto figo cioè sembra il classico gioco complicatissimo da spiegare ma semplice da intavolare far capire come gira sì per quanto poi penso perché non avendolo giocato che nei livelli più avanzati comunque le regole non sono comunque poche non è un giochino è comunque un gioco di un peso medio come anche come durata e come regole che ci sono nel gioco però sì cioè descriverlo a parole è un casino soprattutto se devi fare il mio lavoro in cui vi devo descrivere a parole dei giochi che ancora non abbiamo fisicamente qua e quindi rimane tutto quanto più più complicato e se mi metto a cantare il vulcano è ruttato scorciagone in mezzo alla strada come reagisci che mi unisco nel duetto con te e poi abbracciati cantiamo shanawana shanawana e così con tutti quanti che ci guardano lì ti chiedo di sposarmi cioè buono abbiamo vinto una vita assieme fondamentalmente poi come vi dicevo prima il finale della partita che avviene dopo che ogni tot scene capita un nuovo passaggio dello scenario ok quindi si arriverà a un nuovo punto diciamo della nostra relazione e finito il nostro scenario noi andremo quindi poi a vedere come siamo andati come se abbiamo soddisfatto i nostri obiettivi di coppia ma non è detto che il finale perfetto sia il viscero per sempre felici e contenti magari il nostro finale perfetto è capire che non siamo adatti l'uno per l'altro e finire con una rottura ok non è che noi dobbiamo giocare necessariamente con l'intento di ah dobbiamo sempre fare la stessa scelta dobbiamo andare d'accordo su tutto perché magari semplicemente le due persone di cui abbiamo narrato la storia Franco e Gigi Franco e Gigi non erano fatti per stare assieme e magari Gigi incontrerà qualcun altro con cui essere più felice e cantare con lui Shana Wana del maestro Bini non era l'ho capito sei comunque aiutato dalle carte sì perché ci saranno proprio a parte tutte quante le carte nostra professione le carte dei nostri tratti che già ci danno quindi delle cose che dobbiamo cercare di ottenere e anche sia la nostra professione che le caratteristiche che sono piaciute all'altro ci danno già dei segnalini da mettere vedete sopra o sotto nelle varie caratteristiche no? però poi avremo proprio le carte scena e questo qua sarà la nostra compatibilità no? l'affinità che abbiamo che sono i cuori che otteniamo che man mano ci fanno avanzare e magari noi avremo anche come obiettivo quello di avere una compatibilità cioè di avere tra tutti e due almeno 30 cuori a testa che ne so cose così no? dicevo abbiamo comunque appunto tutte queste queste che sono le carte della campagna diciamo che va avanti no? quindi ti canto una canzone d'amore in pubblico prendiamo questa baita spersa nelle montagne per farci un weekend facciamo la prima visita da Ikea assieme quello metterebbe a dura prova qualsiasi coppia pure come creta nelle mie mani no? ok? quindi ci saranno queste situazioni e poi giocheremo in realtà sceglieremo dalla nostra mano queste scene scene che appunto saranno cose che possono succedere che facciamo succedere nella nostra relazione ok? quindi è come se dice ah oggi andiamo a mangiare il sushi e ti gioco la carta andiamo a mangiare il sushi e ladro mi scofano ordinando 345.000 barche e poi sto male o buono cioè insomma no? cioè andiamo a vedere che cosa succede nella nostra relazione e per esempio però io sarò come tratti no? vedi questi qua saranno quelli privati sono promiscuo sono timido nonostante io sia promiscuo e sono cinico no? e quindi dovremmo avere in vista la piccola descrizione che c'è per fare questo obiettivo dovremmo avere uno shared balance quindi un bilanciamento di cose sul verde che sia di almeno 5 o più sul basso ok? oppure averne uno individuale in questo caso non mi contano i segnalini che ha l'altro ma di 3 sotto sull'arancione ok? e io devo far capitare queste cose sul giocando per l'appunto le carte è proprio da giocare per capirlo decisamente sì è un gioco per rimanchiare tanto quanto Green Ox è un gioco che ti prepara la pensione bellissimo bellissimo paragone Chris si può persino invertire ruoli maschio-femmina volendo? assolutamente sì assolutamente sì io posso essere impersonificare io Maria Assunta io sono una ragazza molto cinica un po' timida e decisamente promiscua e posso essere essere io Maria Assunta con queste caratteristiche e per esempio appunto le scene che andremo a giocare sono per esempio questa qua no? la tavoletta del cesso no? e quindi ci dice ma come gestiamo questa cosa come coppia no? entrambi scelgono contemporaneamente alcune invece come dicevo può essere una scena che io propongo all'altro e solo l'altro dovrà rispondere no? e quindi scegliamo A, B, C o D no? quindi e la tavoletta del cesso allora entrambe la seduta e il coperchio devono essere abbassate entrambe il coperchio e la seduta dovrebbero essere alzate dovrebbe essere abbassata la seduta ma il coperchio è usato oppure l'ultima ma lascialo come l'hai usato no? fondamentalmente entrambi scendiamo scegliamo chiaramente in base alle nostre caratteristiche in base al personaggio che siamo non quello che farebbe Alberto in casa con Valentina ma quello che farebbe Gerardo con Maria Assunta ok? e quindi in base a quello si sceglie e a seconda della scelta c'è stato un match allora abbiamo più tre cuori l'altro giocatore ha anche più tre cuori e chi ha giocato questa carta pesca una scena seria ok? perché poi ci saranno le scene di tre tipologie se invece non c'è il match io perdiamo entrambi i tre cuoricini e si pesca una drama scene una scena più drammatica finalmente un gioco che non metterò in wishlist iniziano ad essere troppo beh ci sta ma come dicevo secondo me sarà un gioco divisivo non ci sta che è un gioco tanto particolare è tanto un'esperienza e ci sta che non non sia da tutti e io ribadisco io sono sicuro al mille per mille che ci sarà chi lo boccia dicendo è una cagata pazzesca perché non è abbastanza di questo non è abbastanza di quello senza capire che non vuole essere né questo né quello però io sono molto molto curioso una specie di The Sims in versione board game l'aspetto The Sims relazionale in versione board game sì esatto real life The Sims sì siamo in quel modo lì ho il terrore che la terza scelta che sbaglio Vanessa mi manda a dormire sul divano senza scindere il gioco dalla relazione quello potrebbe essere un pericolo questo vorrei vedere voi due fareste una partita molto teatrale e bella da vedere The Sims board game vi sono per sempre con liceo divorziati ma Franco è sardo ovviamente ovviamente fratello di Patagarro e un amore una potoforosa tra le parole Franco è forte ma mi prendi per il culo mi prendi per il culo anche tu e spegni la sta cazzo di musica ma dopo la serenata l'altro sceglie sempre in base alle carte sì ognuno di noi avrà in mano delle carte e sarà anche a seconda di cosa ci dice appunto quella pagina dello scenario che stiamo giocando ci dirà fino a quante scene devono essere giocate prima di procedere con la prossima e comunque sì io avrò delle carte in mano e le scene che giocheremo determinano anche quali carte pescheremo da aggiungere alla nostra mano da quale dei mazzetti e proporremo noi quindi la scena dopo sempre un po' in base agli effetti che poi avranno queste scene perché ricordiamoci noi dobbiamo sempre cercare di portare a termine gli obiettivi comuni e gli obiettivi privati che abbiamo ora vedo la chat ma non Alberto Magnex penso che sia un problema solo tuo quella è la parte di GDR che tendevo bisogna riuscire ad interpretare a ragionare come il personaggio creato e non come noi personalmente assolutamente sì questo questo sì già sento urlare abbassa la tavoletta sembra pericoloso da fare con il partner effettivamente sì non perché boccio il gioco ma perché giocarlo con mia madre non mi pare proprio l'ideale ma non sareste te e tua madre sareste te cioè te che saresti un personaggio e tua madre un personaggio sareste due uomini che vanno a convivere cioè tutt'altro però capisco capisco il punto capisco sì anche con mia mamma non ci giocheremo perché mia mamma non capirebbe un cazzo lasciamo perdere mia mamma e lasciamo perdere fog of love che vi ricordo è in preordine e avete il preordine scontato del 20% eh signori quindi approfittatene perché 10 euro rotondi rotondi in meno e quindi tanta roba eh ma quindi è l'altro che ci dà i tratti sì 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 gli obiettivi noi quelli saranno segreti nostri però i tratti è ciò che ci ha ciò che ha colpito l'altro giocatore di noi ciò che di noi ha colpito l'altro giocatore ok quindi dico ok io sono un uno psicologo io sono un vigile del fuoco ok cosa ti ha colpito di me beh sei un vigile del fuoco mi piace molto come ti vesti perché quando ti ho visto con la divisa mi sono tutto quanto ho sentito le farfalle nello stomaco e te che sei un psicologo no a te mi piace molto il tuo sorriso quindi ti do la carta dei denti bianchi mi piace molto il tuo sorriso è molto dolce ok ah giocherei allora di te che sei il pompiere mi piace molto i tuoi muscoli le tue braccia con questi muscoli scolpiti questo tricipite e si va avanti così e queste qua ci danno già delle caratteristiche iniziali ok come queste qua ok le vedi qua vedi tipo che sei vabbè le spalle larghe ok possono avermi colpito di te e quindi hai già una caratteristica delineata dall'altro giocatore e ci sta ogni effetto la divisa è puramente casuale salutiamo Fabio che ci guarda sempre sì Giacomo assolutamente sì tra l'altro finita la live avrai la possibilità di recuperarlo direttamente su Twitch e poi verrà caricato tutto quanto su YouTube recuperatela perché soprattutto di questo fogovlog di cui stiamo parlando da un sacco è molto molto interessante e passiamo a quest'altro annuncio che c'è stato di questo che sarà un progetto che andrà in crowdfunding tra qualche mese la versione duo di Everdell versione solo per due giocatori di Everdell Lenders è mio sì effettivamente io sono molto molto curioso di questo gioco al momento non si sa ancora tantissimo di questo gioco a livello delle delle meccaniche ma quando si tira fuori una versione per due giocatori di un gioco di grandissimo successo abbiamo parlato della versione da due di King of Tokyo abbiamo parlato della versione da due di di Living Forest adesso anche della versione da due di Everdell che assolutamente assolutamente ci intriga e non poco e che cosa dovremmo fare avremo due modalità di gioco si potrà giocare in modalità competitiva oppure in modalità cooperativa quindi già questo è molto interessante con una nuova campagna che però è interamente rigiocabile quindi c'è comunque la possibilità nella versione credo cooperativa di giocare questa modalità a campagna quello che sappiamo è che si giocherà in una trentina di minuti e questo è il tabellone centrale sul quale verranno messe giù le carte carte tra l'altro tutte quante nuove non so se saranno compatibili con il gioco base a mo' di espansione ma e ma comunque sono c'è scritto qua quante carte sono non me lo ricordo più più di 75 nuove abilità delle carte più di 30 diversi eventi da riuscire ad ottenere e gioco molto additivo viene descritto ma sarà comunque stand alone quindi non vi serve avere o conoscere Everdell per per poterlo giocare quello che vediamo appunto della plancia centrale è questo nell'immagine di prima vediamo anche che ci sono questi due totem chiamiamoli qua messi in mezzo alle carte che vanno su questa sterradina centrale uno col sole uno con la luna che non so se rappresenteranno i due giocatori oppure determineranno delle fasi del gioco ma mi è l'idea di vedere questi totem tra quattro carte cioè insomma agli incroci tra le carte credo che mi possa dare una possibilità limitata di scelta di queste carte a seconda di dove si trova il totem ok che dovrà probabilmente cioè anche con un gioco di l'altro che mi blocca io che lo devo spingere oppure se mi metto davanti all'altro l'altro non può più avanzare può solo indietreggiare e quindi abbiamo accesso solo a sempre una porzione limitata di carte non lo so se sarà così è una mia supposizione guardando le immagini del gioco per il resto vediamo comunque che ci saranno qua attorno i soliti spaziazioni ok su cui potremo andare a piattare i nostri lavoratori verosimilmente e andremo a raccogliere le risorse che già conosciamo legno resina sassolini e le bellissime bacche di everdell avremo poi carte che ci permetteranno di prendere carte ok e qua però c'è un altro aspetto perché vedete che c'è la carta freccia in su e la carta con freccia in giù freccia in giù e freccia in su vogliono indicare carte della riga superiore carte della riga inferiore sempre in base a dove si trova la mia il mio totem non lo so altre spaziazioni che ci danno più risorse risorsa la nostra scelta non lo so io ho quest'idea che il totem determini quale carte possiamo prendere e nel caso riga superiore riga inferiore o magari mi sto banalmente immaginando tutto quanto e assolutamente non c'entra niente un altro spettino che c'è che lassù in alto a destra c'è il sito journey viaggio quindi boh da lì si giocheranno delle carte credo di sì perché vedete da quest'altra immagine che anche attorno alla plancia poi ci vanno altre carte carte del viaggio possiamo mandare uno dei nostri lavoratori a fare il viaggio e quindi metterlo lassù e quella quel lavoratore rimane impegnato a darci risorse esplorando carte in giro non ne ho idea tra l'altro poi se guardate qua vedete che abbiamo i mipolini dei topini dei coniglietti e delle tartarughe sono tre tipologie quindi che i topini perché poi i topini sono messi in una posizione diversa o i coniglietti o le tartarughe siano dei mipol condivisi dai giocatori non ne ho la più pallida idea però sono molto curioso mi intriga un sacco ovviamente Everdell per me è un grandissimo gioco Everdell è decisamente un gioco fatto davvero tanto tanto bene è un ottimo sia introduttivo che gioco per esperti cioè trascende veramente in modo trasversale tutti quanti i giocatori e sono molto contento che ne abbiano annunciato per quanto Everdell in due giocatori sia un bellissimo gioco non siamo qua a dire il contrario ma così come lo è Living Forest il fatto però che pensino delle versioni esplicitamente per due ma come è stato Tokaido 2 come sarà King of Tokyo Duel che anche per giochi come è stato Seven Wonders per giochi che funzionano magari anche già bene in due ma pensare una variante una versione del gioco con delle nuove meccaniche pensate appositamente per i due giocatori per me è figo per me è decisamente figo come mai escono con i tanti giochi da due ma secondo me non è che ne escono più di altri cioè semplicemente quando hai un gioco di grande successo come Everdell come Living Forest come Tokaido come King of Tokyo come Seven Wonders se ne fanno la versione da due lo senti già un pochino di più nominare bazzare nella tua bolla social definiamola così ma perché semplicemente sono giochi di grande successo che hanno la versione per due giocatori ma secondo me non è che ne escano di più o di meno rispetto ad un tempo escono magari più giochi con la variante in solitario sì senza ombra di dubbio ma sui due giocatori non non noto così tanta differenza quindi quando la versione per due di Resistance beh lo dici per ridere Luke ma in realtà se ci pensi uno dei giochi a ruoli nascosti di Bluff per antonomasia che è Saboteur esiste la versione per due giocatori esiste Saboteur il duello quindi che non ho mai provato non conosco però mai dire mai fondamentalmente il gioco di Bluff per due sembrava impossibile finché non è arrivato Mantis Fall che cavoli è uno dei giochi di Bluff più belli che esistano al mondo eppure solo per due giocatori con anche la versione per tre Marco ti ho anticipato chi è Antonio Masia non lo conosco conosco Alessandro Masala però se vuoi e salutiamo Alessandro Masala ciao Shai che ci guarda sempre ciao Ale no non so chi sia Antonio Masia perché Reilis che domanda è così da nulla questa cosa è una citazione non l'ho colta cavoli devo googlarla adesso googliamo Antonio Masia Sassari no no 40 profili su LinkedIn no non capisco no trovo solo notizie tragiche Antonio Masia Antonio Masia ok che io ho detto Masia e quindi non la capivo grazie Reilis per avermi fatto sentire un po' anche quest'oggi grazie mille ok non l'avevo capita non mi ricordavo neanche che avessi usato il termine Antonomasia con tanta pazienza sono scevo comunque di questo ne sentiremo parlare poi e l'avevamo già accennatino ino ino nella in qualche puntata fa perché avevano mostrato una carta di Faraway con un numero che ancora non c'era ed ecco che arriviamo a scoprire di che cosa si tratta di questa espansione di Faraway e vediamo che è un'espansioncina in busta come quella di Alpaca che è appena arrivato l'expansion pack con i due nuovi Alpaca il sommozzatore e il pirata ecco che anche Faraway sfrutta questa stessa tipologia di packaging anche per la sua espansione perché va ad aggiungere poche nuove carte che permettono però il gioco di essere giocato fino a 7 e introducono soprattutto il popolo di sotto il popolo che abita sotto sarebbe di sotto esatto Guerrera numero 3 ci vuole anche in italiano l'espansione ma io sono sicuro che arriverà anche perché oddio Faraway sapete esce adesso arriverà brevissimo all'inizio di settembre per tutti quanti per tutti quelli che l'hanno preordinato probabilmente un pochino prima ma sta assolutamente per arrivare infatti tra poco ne parliamo ma io sono sicuro che arriverà questa espansione perché come vedete aggiunge queste nuove carte ok quindi le carte prima si fermavano 68 adesso riparto dal 69 69 70 71 72 83 84 75 76 e lo 0 hanno aggiunto lo 0 che così va a sbilanciare un attimino il bilanciamento del gioco che c'era prima più alcune nuove carte tempio far away prossimo vincitore dello spiel probabilmente categoria kenner direi come ha vinto la sdor categoria in ite io prossimo anno mi ce lo vedo quest'anno lo dicevamo non era stato candidato né nominato né raccomandato per esempio che in germania non è ancora uscito e quindi prossimo anno probabilmente lo vedremo e lupigio lupigio hai perfettamente ragione comunque su questa su questa tua cosa è dipendente dalla lingua no 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 non è come vedete non è dipendente dalla lingua ma vediamo l'avevamo già visto anche sulla carta precedente che avevamo visto che era la 73 forse si era la 73 la carta che avevamo visto ritorno nuovamente quel simbolettino lì che non sappiamo di preciso cosa vada ad indicare questo che vediamo su queste quattro carte qua sotto scusate queste quattro carte tempio qua sotto 28 punti 28 punti con la 75 tanta roba però farli avere tutte quelle p3 sacre quelle fiammelle tanta tanta roba si però molto belle come sempre l'illustrazione sono tra l'altro nuovi personaggi illustrati ma si ma arriverà come arriva adesso il gioco base che arriva tra poco secondo me non tarderà dare l'annuncio di questa espansione anche perché comunque le regole all'interno chiaramente le dobbiamo le dobbiamo avere in italiano quindi assolutamente assolutamente desiderosi di aspettare ultimo annuncino di questa prima parte prima di andare a vedere ma sono già le due di andare a vedere esatto in francese come il bacio di andare a vedere cosa esce adesso di agosto ma vabbè facciamo in fretta hanno annunciato zombie burrito ridevamo l'altra settimana dopo i burrito gli avocado le spade diamoci gli schiaffi in faccia no hanno fatto i burrito zombie ci si divide in due squadre una squadra sono gli zombie l'altra squadra sono i normali quando qualcuno viene colpito dallo zombie burrito si unisce alla squadra degli zombie perché chiaramente si trasforma e la base del gioco è sempre la stessa doverci scambiare le carte per poter giocare le combinazioni per far partire i duelli lanciandosi il burrito addosso e quindi ci saranno varie battaglie da dover lanciare tra giocatori delle diverse squadre che si tireranno contro questi burrito cercando di trasformare tutti quanti in zombie doppio next allora guarda ne parleremo per la prossima stagione ma ma per adesso accontentiamoci delle due ore del lunedì corti in gioco ve lo accennavo prima tematica di quest'anno una crisi ambientale causata dall'uomo per creare il vostro racconto gioco racconto a bivi che potrete sottoporre ai fantastici giudici di corti in gioco ancora fino al 18 di agosto vi invito al link che vi ho spedito in chat di andarvi ad informare sul bando su come fare per poter partecipare quali caratteristiche dovrà avere il vostro racconto tra le minimo 20.000 e le 40.000 battute spazi inclusi scheda personaggio regolamento non sono da includere in questo conteggio e potete creare la storia che volete voi nello stile che volete voi con il vostro stile con i vostri bivi con le vostre meccaniche purché non ci siano dadi da lanciare e sottoporlo ai giudici di questa edizione che sono ovviamente il buon Cristian Giove Matteo Teo Boca Veronica V e Andrea Tupac Mollica per poi trovarci questo settembre a scoprire chi avrà vinto il premio messo in paglio per i primi tre classificati ovvero dei buoni da spendere su DungeonDice.it e poi i racconti più meritevoli venire pubblicati nella prossima antologia di racconti gioco che va a seguire creature e controvento quindi mi raccomando se avete voglia al Ghiribizio di scrivere io vi ricordo che è ancora aperto il è ancora aperto il il bando per poter partecipare e adesso passiamo un po' alle cose in uscita in queste settimane in Italia Botanicus che vi ricordo arriverà il prossimo lunedì di cui proprio oggi è uscito tra l'altro il nostro gameplay del gioco in anteprima ne abbiamo già parlato ampiamente nell'ultime settimane quindi non mi soffermerò più di tanto proprio perché ne abbiamo parlato in lungo e in largo in caso potete recuperare tranquillamente le scorse puntate di Next così da rimanere super aggiornati su questo titolo gioco che era anche tra i raccomandati nella long list del Kennerspiel di quest'anno anche ieri infatti sul palco di Berlino è stato è stato nominato proprio in quanto un gioco alquanto valido è la definizione nella quale io mi ci ritrovo perfettamente Botanicus lo vorrei provare in un luogo o meno in mezzo alle anni un paio di settimane se non mi sbaglio ci dovrebbe essere se non ci fosse vabbè dai nel caso te lo porto Fabio e Botanicus che cosa ci porterà a fare ci porterà a essere dei niente po' po' di meno che giardinieri che dovranno andare a piantare e far crecere le piante all'interno del nostro giardino per farlo andremo a selezionare le azioni che vorremmo fare che ci permetteranno di andare ciao la Likiki ben arrivata ti sei persa un paio di giochi veramente bomba e ti invito poi a recuperare la prima parte della live dicevo noi andremo a selezionare le azioni che vorremmo fare in un sistema per cui premia sempre chi ha fatto l'azione più debole nel turno prima o ha dovuto pagare per fare un'azione già occupata da altri giocatori e in questo modo noi andremo a selezionare la nostra azione e l'eventuale bonus associato all'azione che scegliamo di fare azioni che ci permetteranno di piantare nuove piante nel nostro giardino innaffiarle per farle crescere o muoverci su tre tracciati che ci daranno vari bonus tra monete innaffiamenti e nuove piantine con che logica lo dovremo fare noi potremo sempre lavorare solo nelle quattro i-wall attorno al nostro giardiniere che dovremo spostare pagando soldi che saranno sempre pochi nel corso della partita per cercare di soddisfare le richieste dei clienti dei visitatori che abbiamo lì a destra in riga inoltre ogni colonna ci darà punti in base alla pianta di maggior qualità che ci sarà all'interno di quella colonna altri punti li faremo anche ottenendo gli animali che potremo andare a prendere e mettere sulla nostra plancetta il fatto è che il gioco è tremendamente stretto e veloce perché le azioni che possiamo fare sono soltanto 8 nei due round di gioco quindi in realtà facciamo 16 azioni in tutto più ci sarà un terzo e ultimo round in cui scegliamo un ultimo avanzamento per fare ancora proprio l'ultimo aggiustamento e se questo non vi bastasse quella che vi ho descritto è soltanto la variante base del gioco in quanto il gioco arriva anche con una versione avanzata che va ad introdurre non solo degli obiettivi privati per i giocatori che più volte li soddisferemo più punti ci daranno e che possono comunque essere anche introdotti nelle vostre partite nella variante semplice ma soprattutto hanno tutto un altro ruolo gli animaletti perché se nella variante base i nostri animaletti ci danno solo punti nella variante avanzata non solo ci occupano delle uole quindi li dobbiamo levare per poter andare a piantare in quelle uole ma ognuno di questi animaletti ci darà anche un'abilità unica solo a noi e quindi ottenerla ci sbloccherà nuove potenzialità e ci darà il via a nuove strategie nel corso della nostra partita altra uscita di questa settimana anche di questa ne abbiamo già parlato scusate e New York Medical Mysteries gioco nel quale ci troviamo a vestire i panni del Dr. Green di IR quanto siamo vecchi a ricordarci del Dr. Green di un George Clooney con ancora tutti i capelli neri che faceva il medico nel pronto soccorso ma come dicevo punto gioco nel quale noi saremo nella medicina d'urgenza saremo proprio al pronto soccorso ci scaricano il paziente dall'ambulanza e ci danno il briefing la cartella di questo paziente dicendoci è successa questa cosa la febbre alta questa eruzione questo raccio cutaneo sarai lupus ovviamente sì secondo il Dr. House l'hanno posticipato di poco sì non lo so mi sono so che è in uscita scusate io ammetto di aver preparato questa puntata domenica cioè sabato quindi 26 luglio ah vabbè venerdì esce sì sì comunque è in uscita è in uscita e ricordiamoci che c'è scritto sul regolamento che giocare a questo gioco non fa di te un medico avremo 4 pazienti di difficoltà crescente e bello l'espansione zombie di New York cioè pronto medical mysteries zombie medical mysteries apocalypse mamma mia maxi emergenza mamma mia sarebbe bellissimo ma per quello giocheremo poi a a redditi il prossimo anno nel gioco appunto ci arriverà il paziente avrà dei sintomi e noi dovremo scegliere facciamo analisi proviamo una cura cerchiamo ulteriori informazioni parliamo con parenti amici che possono dirci che cosa è successo a seconda delle nostre deduzioni faremo un tentativo magari facciamo delle analisi specifiche per un qualcosa e però dobbiamo aspettare del tempo prima che arrivino le analisi quindi il tempo sarà passato e la condizione clinica del nostro paziente sarà evoluta magari è rimasta stabile magari è migliorata o magari è peggiorata in quel caso che cosa faremo proviamo una cura diversa facciamo altre analisi ci sbrighiamo gli diamo 30 cc di placibio anche dottore insomma faremo delle scelte ma ognuna di queste scelte farà passare del tempo e riusciremo prima che sia passato troppo tempo per il paziente a salvarlo speriamo di sì e lo riusciremo a scoprire con i quattro casi inclusi nella scatola mi viene in mente Daiso Hospital ovviamente quello di Dadi è molto divertente se l'avevo giocato tanti anni fa Daiso Hospital è una tipologia totalmente diversa qua è diciamo più un deduttivo dove di solito c'è un crimine da dover risolvere qua non c'è il crimine da dover risolvere ma è è un investigativo fatto medical quindi non c'è non c'è stato il crimine ma c'è una malattia misteriosa da capire che cos'è 3-2-1 libera non 1-2-3 libera si conta al contrario così si sa che si è arrivati allo zero ma soprattutto che combinava la figlia del dottore con le tre civette che erano sopra il comò le facevano timore alla figlia del dottore eh 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 non facevano all'amore per quanto continueremo sempre a cantarla così e non sono medico si vede Max si vede però non hai mai neanche guardato con attenzione i AR medici in prima linea eccoli qua i nostri quattro pazienti che chissà se riusciremo a se riusciremo a a salvare oppure no più c'è anche il tutorial quindi c'è il caso tutorial e poi ci sono quattro casi eh da fare in difficoltà crescente sono molto curioso di questo gioco ho visto tra l'altro comparire anche nei pre-ordini su Dungeon Dice Ryosen questo gioco che era passato su Kickstarter penso due anni fa in uscita prevista per il 31 di luglio ma noi non saremo qua su Next per ricordarvelo questo gioco di Martino Chiacchiera nel quale è Daniele Piccolini così citiamo entrambi gli autori perché è doveroso è un gioco di maggioranze potrei definirlo nel quale avremo questo palazzo della Fenice la Fenice che si deve risvegliare dopo il suo sonno di migliaia di anni e noi siamo dei clan che vogliono avere il prestigio maggiore agli occhi della Fenice quando si risveglierà per essere eletti nuovi detentori del controllo di queste terre quando lei tornerà in retargo dopo che si sveglia dopo che si sveglia da da per dieci minuti poi torna a dormire fondamentalmente la particolarità è che appunto noi avremo questa plancia rotonda e rotante in quanto il palazzo ruoterà tenendo così traccia non solo di quali settori sono illuminati e quali no per dei conteggi particolari nel corso della partita ma anche per determinare l'ordine dei round di gioco e noi come vi diciamo è un gioco di maggioranza e per quanto noi andremo a piazzare i nostri seguaci nei vari settori della mappa ogni settore ci darà diritto a fare delle azioni diverse ad agire su un aspetto diverso del gioco dagli eventi alla raccolta delle risorse a convertire queste risorse in frammenti di giada per fare dei punti con delle maggioranze ma soprattutto ogni tesserina che noi andremo a posizionare avrà un potere diverso e potremo andare ad applicare il potere di di questa di questa tessera posizionandolo noi però se vogliamo li possiamo anche posizionare a faccia coperta così da non rivelare le nostre intenzioni ma in questo caso dobbiamo pagare monete che saranno comunque molto molto scarse nel gioco queste questi piazzamenti che faremo andranno ad interagire con gli altri giocatori perché magari rimuoveremo una tessera di qualcun altro dallo spazio dove ci siamo messi ne possiamo rimuovere una dallo spazio opposto se raccogliamo risorse ne possiamo raccogliere di più insomma avremo varie opzioni nel corso del nostro turno con cui svolgere le varie le varie attività diciamo che si fanno nei vari settori del tabellone a livello di materiali molto bello c'è anche la la miniatura della della fenice che verrà a controllarci e ogni alla fine di ogni round quindi quando tutto quanto il palazzo sarà girato allora andremo a conteggiare risolvere sezione per sezione i vari elementi dove chi avrà la maggioranza potrà fare cose potrà muoversi nel viaggio potrà raccogliere risorse potrà scegliere se attivare o meno degli eventi che potranno essere anche negativi per i giocatori potremo anche acquisire nuovi membri del nostro clan quindi acquistarci nuove tesserine con cui aumentare la nostra possibilità di posizionamento altro annuncio che c'è stato di questo già ve ne volevo parlare l'altra settimana ma in realtà non ne avevamo non ne avevamo fatto in tempo e questo Tree Society che è stato annunciato dalla Next Move e già annunciato da Asmodee per una localizzazione il gioco penso che verrà presentato a Essen e credo che poco dopo lo avremo lo avremo anche in italiano dovessi abbozzare una data vi sparerei un Luca Comics and Games quindi fine di ottobre e questo Tree Society non ci sono grosse informazioni non ci sono immagini non si sa bene ancora come funzioni quello che sappiamo è che un gioco di engine building costruzione di un nostro motore che sarà dato da diverse carte che saranno i vari edifici che noi andremo a costruire sugli alberi di questa nostra Tree Society per l'appunto ogni carta ci darà infatti diritto ad accedere a delle risorse oppure convertire delle risorse con cui poi andare a giocare via via nuove carte e crearci in questo modo il nostro motore molto curioso perché i giochi della next move hanno sempre qualcosa di molto intrigante al loro interno è la stessa casa che una volta era la plan B che poi si è ha cambiato nome ed è diventata la next move dopo che appunto la titolare di questa casa editrice quando appunto venne acquisita la sua prima realtà editoriale dal gruppo Smodè aprì il suo plan B il suo piano B come nuova casa editrice quando anche quella poi è stata acquisita allora ha fatto la sua next move la sua prossima mossa già era tutto quanto nei piani di queste realtà editoriali molto molto bello momento super quark sì è molto divertente sapete che mi ha raccontato questa cosa che io rivendo a voi come se la sapessi io Christian Giove che salutiamo grazie Christian per avermi raccontato ma aveva anche detto il nome della signora che era appunto la signora next move che però ovviamente non mi ricordo altro annuncio che c'è stato da parte di Horrible è anche questo con localizzazione da parte di ora ve lo controllo perché non vorrei dirvi una stupidaggine perché è un gioco di Horrible ma che arriva con Genos Games esattamente non volevo dire Genos ma non ero sicuro gioco di Luca Bellini e Luca Borsa che salutiamo anche autori con Stefano Negro del bellissimo Fruit Cup che vi ricordo è disponibile dall'altra settimana quindi nel caso ancora non l'aveste preso beh correte su dungeonnice.it recuperatelo quello sarà il vostro gioco del Forever Endeavor andate sul sito ad acquistarlo ma in Flower Fields che cosa hanno pensato per noi i buoni Luca e Luca Luca e Luca dove siete adesso Luca e Luca Luca e Luca ok scusatemi gioco di piazzamento polimini e non è Rosenberg fate attenzione non è Rosenberg sono Luca e Luca che hanno pensato questo piazzamento in quanto noi dovremo andare a piazzare i fiori all'interno che sono su questi polimini in vari colori in controcolori posizionare all'interno del nostro campo e più sarà grande la zona di colori uguali contigui maggiori saranno i punti che ci darà quella zona se e solo se ci saranno sopra le api per poter impollinare e come le prenderemo le api noi quando andremo a scegliere la tessera che vogliamo dalla patchwork insomma dal display centrale potremo scegliere quella che vogliamo ma per ogni tessera che saltiamo dobbiamo lasciare sopra una delle nostre apine che raccoglieremo poi sia prendendo le tessere ma anche andando a coprire gli alveari sopra la nostra plancia e quindi coprendo gli alveari prendiamo apine che o spendiamo per acquisire le tessere che ci interessano le potremo andare poi a posizionare sulla nostra plancia per moltiplicare i nostri punti altro annuncio di altra uscita del mese di agosto è il gioco di star wars the mandalorian di questa ne avevamo già parlato parecchio tempo fa ricorda un po' biz no giaco ricorda biz solo per le apine in realtà ricorda sicuramente più appunto vabbè ora ho nominato patchwork per il modo in cui si prendono i tetramini polimini in realtà perché non tutti sono da 4 a vedere no quello lì è da 5 ma assomiglia a queens neanche no sono giochi a tema parco fiorito ma no assomiglia a zombies perché alla z neanche no no è appunto è un gioco di incastri fondamentalmente un po' alla patchwork con in più questo twist del moltiplicatore delle zone dato dalle apiche quindi dobbiamo gestirceli sia di moneta ma anche di poi moltiplicatore dei punti quindi quindi non mi verrebbe da paragonarlo né a queens né a honeybuzz né a biz e neanche ad apiari grazie Marco e a me ricorda anche un po' Ishtar come prendere i pezzi e sistemare sì sì vagamente per quanto poi su Ishtar avevamo comunque una plancia comune c'era il discorso di raggiungere le fontane delle maggioranze bello Ishtar dovrei rigiocarci grazie per averlo nominato ma chi ti manda mi manda lorian e quindi torniamo a parlare di mandalorian adventure gioco di Cory Konietzka che arriverà nel mese di agosto basato sull'ovvio grande franchise di star wars con le avventure del mandaloriano e quindi ci sarà anche grogu ci sarà moff gideon e tutto quello che sapevo di mandalorian finisce qua se non c'è pedro pascal che salutiamo perché ci guarda sempre e il gioco che cos'è il gioco è un gioco che riprende in parte un po' le meccaniche e il mood di assalto imperiale in quanto noi dovremo collaborare muoverci tra le pagine di questo libro che rappresenteranno vari scenari la nostra mappa quindi non abbiamo più noi da mettere giù le tessere a crearci lo scenario ma è bello che è fatto sul quadernone e quindi via abbiamo annullato i tempi di setup fortunatamente vedo pascal c'è anche la versione più rapida turbo pascal che salutiamo e anche il suo avo blaze pascal che va beh era molto molto simpatica e poi c'è anche una bellissima battuta però non è tempo e luogo di raccontarvela per quanto apprezzereste tutti quanti perché è molto da nerd quindi ve la faccio ve la faccio molto veloce e comunque ci sono tutti quanti i fisici di una volta che si si trovano a giocare a nascondino allora Einstein va a contare si mette sotto uno due tre tanto gli altri corrono a nascondersi e Newton prende un pezzo di carta lo ritaglia un metro per un metro ci si mette sopra Einstein finisce di contare lo guarda e fa ah tana per Newton e fa eh no io sono pascal comunque questa la capiscono solo quelli che hanno fotofisica se ho detto giuste le unità di misura e i nomi dei personaggi ma penso di sì penso di sì comunque ritornando al mandaloriano questa me lo scanno dallo stipendio i 30 secondi persi per contare questa barzelletta che capiscono che capiscono in pochi non è terrificante e so che te la rivenderai a me fa molto molto ridere a me fa molto molto ridere comunque per chi non sapesse di fisica cioè il un pascal e un newton su metro quadro quindi l'unità della pressione e la vabbè comunque è molto bella comunque il newton fratto metro quadro e corrisponde alle pascal se avete fatto un po' di fisica a liceo magari ve lo ricordate mandalorian come era appunto già anche in l'assalto imperiale noi muoviamo le nostre pedine sulla mappa combattendo contro i nemici che spawneranno cercando di portare a termine l'obiettivo dell'avventura chiaramente noi andremo ad impersonificare tutti quanti i protagonisti dell'omonima serie tv targata disney che trovate su disney plus potrete vestire i panni del mandaloriano del robot dell'altro signore con la pistola in mano e andare in giro a andare a sparare a tutti quanti i cattivi che ci sono nel gioco che vi attaccheranno e voi dovrete lanciando i dadi giocando carte potenziarvi migliorarvi muovervi in giro per la mappa e con una meccanica di puntazione per poi combattere contro i nemici e portare a termine l'obiettivo della vostra missione missioni che saranno appunto a mo' di campagna nell'arco del mission book che potrete portare a termine appunto andando a impersonificare tutti quanti i vostri beniamini della serie tv che io non conosco di next 15 non ho raccontato così tante cavolate dai però era molto bella altrimenti con l'uscita teoricamente alla fine del mese di agosto e mesos che sta per arrivare anche questo ma non so se arriverà prima next o prima mesos ma mesos gioco di cranio creations un original di cranio creations nel quale da 2 a 5 giocatori andiamo a prendere carte per fare punti in base a diverse tipologie di collezione set utilizzando la nostra arriva nel mesos di agosto esatto la copertina la copertura indica perfettamente che stagione dovrebbe arrivare la copertina esatto nel mesos che fa caldo va bene oggi siamo tutti in formissima mamma mia ragazzi come funzionerà il gioco noi andremo a scegliere in base all'ordine in cui saremo su questa carta lo spaziazione che ci interessa maggiormente più sarà lontano più sarà in fondo più carte potremo prendere tra le carte nella parte superiore e le carte nella parte inferiore ma più in là ci metteremo più tardi giocheremo nel turno successivo le carte poi non scelte dalla riga superiore passeranno nella riga inferiore quindi dandole comunque una seconda possibilità di essere prese e quelle non prese della riga inferiore vengono buttate via e che cosa ci daranno queste carte come dicevo ci daranno vari simboli a seconda che siano cacciatori a seconda che siano i graffitari a seconda che siano gli sciamani ci daranno diversi simboli ognuno di questi ci darà punti o risorse in modo diverso in quanto avremo anche la possibilità di prendere cibo che sarà la risorsa del gioco per andare a costruire questi edifici che ci possono dare punti o cibo in modi diversi poi alla fine della partita dandoci abilità magari passive nel corso della partita bellissima Egno mamma mia anche qua oggi proprio scende il gelo in questa live quindi stare troppo in quattro poi la potrebbe penalizzarvi alla fine conviene sempre stare in mesos e decisamente sì e infatti è proprio per quello che il gioco si chiama così il gioco sembra decisamente semplice nel suo svolgimento ma comunque ci sono varie tricchini da mettere in campo diverse le tipologie di carte carine le illustrazioni curioso di provarlo perché secondo me potrebbe riservare più profondità di quella che sembra l'unico appunto che mi viene da fare senza averlo giocato è che in meno giocatori vengono ridotti gli spaziazione e la quantità di carte sopra e sotto non so se magari appunto giocato in due rimane un peletto forse meno teso la scelta di dove mettersi soprattutto perché non puoi metterti in mesos ma dovrei sempre metterti o primos o ultimos e quindi è così e chiedevo scusa a tutti gli amici di lingua spagnola perché stiamo rovinando anche la loro lingua e apprende andare via un'altra barzetta agghiacciante ormai siamo entrati nel mondo c'è Heisenberg che guida la macchina e viene fermato dalla stradale lo sa che stava andando 150 ecco grazie a tante ora mi sono perso non l'ho capita scusami lupiggio mi serve la spiegazione la mia fisica si fermava Pascal Newton su metro quadro e grazie Star Juve grazie mille per il tuo follow grazie mille comunque mesos tanta roba le uscite poi del mese di settembre andiamo rapidi perché siamo siamo proprio giunti giunti alla fine ormai di questa live ma io vi volevo ancora ricordare di un sacco di roba bella che c'è in uscita ma dai andiamo mamma mia ne ho troppi niente ci fermiamo ci fermiamo qua cioè qua al punto della scaletta principio di determinazione di Heisenberg ok per me Heisenberg è Breaking Bad e basta ah si può conoscere solo la posizione o la velocità ma mai entrando ok grazie allora molto bella molto bella lupiggio grazie dicevamo in uscita a settembre Tetis Space Dungeon della Little Rocket Game gioco di Dungeon Crawler esplorazione spaziale collaborativo nel quale ci muoveremo tra le stanze di questa base spaziale su Tetis luna di Giove può essere che è una delle lune di credo Giove o Saturno adesso non mi ricordo e combatteremo contro gli alieni che usciranno per prendere nuovi equipaggiamenti via via diventare più forti e cercare di soddisfare l'obiettivo di questa missione che normalmente sarà ottenere delle chiavi dei codici di accesso a determinate stanze fino ad arrivare poi a sconfiggere la regina madre di tutti quanti gli alieni che si trova all'interno della scatola molto originale ogni giocatore poi avrà il suo personaggio ogni personaggio avrà delle abilità speciali luna di Saturno grazie questa non la leggo Lupigio ognuno avrà un limite di movimento avrà un abilità speciale legata al suo personaggio e via via che subiremo danni avremo poi anche dei malus nel corso della partita l'altra uscita l'altra uscita sempre di Little Rocket questa sarà un pochino più avanti ma uscirà Dream che è una riedizione del primissimo gioco mai pubblicato dalla Little Rocket Game con una nuova grafica e abbiamo appunto queste carte sogno e incubo che dovremmo cercare di giocare davanti a noi i sogni dall'1 al 6 il fatto che gli altri giocatori potranno giocarci sopra gli incubi per rubarci le carte sogno ma avremo anche le carte REM che funzionano un po' come dei jolly uno dei personaggi della tempesta di Shakespeare sì 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 assolutamente sì uno dei personaggi di Comit salutiamo anche Aliena della tempesta di Shakespeare Prospero che è un'altra delle lune di Urano tra l'altro comunque saluti anche a Shakespeare che ci guarda sempre ricordandovi che uscirà poi Slims and Darrows la scatola di Unmatched a tema Shakespeare che dovrebbe arrivare in italiano verso Lucca Comics and Games quindi mi raccomando continuate a seguirci e potevamo parlare di Unmatched sì perché con una scatola a tema Shakespeare vuoi non parlarne grazie a Lupigio parlassi eccolo qua quindi Dream gioco di carte molto semplice molto veloce ma con una bellissima interazione tra i giocatori come dicevamo prima arriva Far Away quindi ne parleremo assolutamente ancora appena ricomincerà Next perché arriverà all'inizio di settembre ma se l'avete proordinato forse magari tenete alzate le antenne e bellissimo Far Away Yasha ve lo comunicheremo come sempre quando riprende Next ve lo comunicheremo seguite il canale Telegram per non rimanere non rimanere in balia del non sapere quando ripartirà Next ma l'ultima di agosto la prima di settembre dovrebbe essere più o meno quel periodo lì a meno di cambiamenti dei quali non sono ancora a conoscenza ma ritornando al bellissimo Far Away per me come Sky Team uno dei giochi top dell'anno top 3 senza ombra di dubbio dei giochi più belli di quest'anno non penso Love and Sawyer che cosa dovremmo fare dovremmo giocare queste carte numerate fino al 68 perché l'espansione ancora non c'è davanti a noi giocheremo 8 carte davanti a noi ma poi le risolveremo nel senso opposto a quello a cui le abbiamo giocate e noi vorremmo sempre giocare le carte in ordine crescente di numero perché giocare in ordine crescente ci dà diritto a prendere le carte tempio che ci danno nuovi bonus nuovi simboli nuovi modi per fare punti e nuove condizioni con cui poter conteggiare le altre carte ma allo stesso tempo le carte con i numeri più alti sono quelle che richiedono più simboli per poter essere conteggiate e come vi dicevo noi giocheremo le carte davanti a noi a creare uno schema di 8 carte come questo con i nostri tempietti che siamo riusciti a prendere nel corso della partita però poi noi le carte le conteggeremo dall'ultima a tornare indietro e quindi quando conteggiamo l'ultima se sull'ultima mi darebbe dei punti se io vedo determinati simboli ma quei simboli non li vedo perché tutte le altre carte sono facce in giù ecco che allora mi attacco e quei punti non li faccio un gioco semplicissimo nel suo svolgimento ma che ti obbliga a pensare in modo diametralmente opposto a come fai in qualsiasi gioco e quindi questo ti crea una bellissima tensione al tavolo dove poi puoi anche guardare cosa fanno gli altri cercare di togliergli le carte che gli servirebbero di più che gli darebbero più punti insomma un gioco veramente veramente figo veramente teso fino all'ultimo secondo ne parleremo ancora appena ricominceremo con next perché ribadisco per quanto mi riguarda come skate team uno dei giochi più belli dell'anno e altro uscita sempre del mese di settembre gira bene fino a 6 giocatori ma gira benissimo in 2 e gira benissimo in 6 perché comunque si gioca tutti quanti sempre simultaneamente e quindi non c'è sì sì in 6 tiene da dio ti dico in 2 giocatori 2 o 3 puoi anche un pelo di più guardare cosa serve all'altro e togliergli qualcosa che possa servire tanto all'altro e chiaramente in 6 lo perdi un pochino però ti assicuro che in 6 anche giocare per ultimo quindi scegliere per ultimo quale carta avere il turno dopo diventa veramente veramente difficile e in 6 giocatori comunque tiene e dura tanto quanto in 2 perché al di là della fase di conteggio dei punti si gioca tutti sempre simultaneamente e quindi in realtà il tempo di gioco è anche iper mega contenuto dicevamo altra uscita di settembre il bellissimo Umbrella gioco nel quale coloratissimo gioco nel quale andremo a fare le nostre coreografie in quanto andremo a Broadway sugli stage dei musical di Broadway e dovremo andare banalmente a disporre all'interno del nostro schema gli ombrelli colorati nella posizione indicata da una delle carte coreografia delle carte schema che avremo cercando di soddisfarle la particolarità quale è che il musical si chiama sliding in the rain scivolando nella pioggia perché noi dovremmo fare sciogli scivolare scusate i nostri ombrelli da sinistra verso destra da destra verso sinistra dal basso verso alto dall'alto verso il basso in che modo lo faremo prendendo uno degli ombrelli che abbiamo nella zona a destra o a sinistra o al centro o in basso spingendolo nella direzione da cui arriva nella riga o colonna di nostra scelta per poi andarlo a portare quello che esce dal palco in quel momento andarlo a mettere nella zona di attesa corrispondente e in questo modo lasciarlo anche disponibile agli altri giocatori ormai quando vedo questo gioco penso a performance di Alberto come avevo parlato la prima volta non me la ricordo penso di aver cantato I'm sliding in the rain just sliding in the rain credo ma anche perché singing in the rain bellissimo musical d'altri tempi ma molto molto piacevole a cui sono anche legato perché ne feci una particina tantissimissimi anni fa all'interno di questo musical e quindi appunto dobbiamo cercare di soddisfare le carte obiettivo come queste quindi avere avere ombrelli tutti quanti dello stesso colore nelle posizioni indicate dalla carta ho cantato ombrella di Rihanna ok bello anche quello poi avrò anche cantato single lady perché solitamente le faccio un mashup delle delle due dicevamo fatto l'obiettivo che succede? succede che noi possiamo andare a fare dei punti e dobbiamo fare punti a seconda dello schema che sceglieremo questi sono due schemi livello 1 e livello 3 ci sono 4 livelli di difficoltà nei quali più prenderemo abbiamo fatto lo schema con gli ombrelli blu prenderemo un taculet dal centro del tavolo e lo andremo a mettere sopra uno degli ombrelli blu facendo punti in che modo? allora per esempio in questa qua bassa ci dice che se noi avremmo fatto più ne facciamo meglio è ma se noi avremmo fatto questi gruppi avremo occupato con i segnalini neri questi gruppi faremo anche questi punti bonus quella sopra invece devo fare cose che siano collegate tra di loro e questi spazi qua bianchi vedete che c'è il tassellino bianco con un asterisco è perché a seconda dell'orientamento di queste tessere che quando riceviamo dobbiamo mettere davanti a noi possiamo anche completare completare quelle lì e anche perché ci danno l'orientamento poi proprio della tessera anche questo arriverà a settembre e quindi io non vedo l'ora di parlarvene ancora poi uscirà altra roba ma avremo modo di parlarne ancora perché uscirà anche Dune la guerra di Arrakis ve lo guarda dai ve li faccio passare al volo uscirà chi fa che il gioco dei cosi che cosa non ne abbiamo parlato un sacco una sorta di ensemble ma meno bello perché ensemble è stupendo ma dobbiamo basarci sul nulla per cercare di capire quale dei cosi che ci sono sul tavolo il più adatto a fare qualcosa che ci dirà una carta e se in tutti scegliamo lo stesso coso allora possiamo portarlo avanti e per poi fare il round round finale uscirà come dicevo Dune la guerra di Arrakis gioco della cool minior not di Magine Pitello gioco che va a riprendere un po' delle meccaniche della guerra dell'anello queste due fazioni che si combattono qua per il controllo della spezia bellissime miniature i vermoni i sandworm dell'universo di Dune salutiamo come sempre Timothy Chalamet che ci guarda sempre di casa a Tredes il sistema di gioco è basato su queste carte che giocheremo nel nostro turno noi lanciamo dei dadi a seconda della faccia di dado potremo fare determinate azioni date dalla nostra plancia che azioni che vengono potenziate se giocheremo le carte personaggio nei dati slot azioni ci permettono di muoverci schierare nuove unità combattere eccetera eccetera sempre dall'universo di Dune ne abbiamo parlato l'altra settimana arriva anche Dune Imperium in surrezione che in questa nuova scatola base che va e rimane comunque combinabile con le vecchie espansioni di Dune Imperium ma va comunque a riprendere il gioco base e sistemarlo un po' dargli un po' nuova linfa vitale andare ad aggiustare alcuni aspetti del gioco che non funzionavano probabilmente al meglio secondo gli autori e l'editore che hanno scelto di fare questa nuova edizione di base rimane comunque un gioco di deck building unito a un piazzamento lavoratore in quanto manderemo i nostri agenti negli spaziazioni che ci chiederanno di giocare carte dalla nostra mano per poterli attivare ottenere le risorse e andare a schierare forza di battaglia novità è data dal fatto che in battaglia potremmo anche utilizzare anche qua i vermoni Timothy che abita alla spezia ovviamente andremo anche ad utilizzare i vermoni in battaglia oltre ad avere nuove carte nuove carte leader nuovi personaggi che ci danno abilità asimmetriche i vermoni ovviamente li dobbiamo attirare a noi per poi andarli ad utilizzare in battaglia e cosa importante hanno introdotto le spie questo per permettere di andare ad agire su spaziazioni occupati da altri se c'è la nostra spia fare più robe ottenere comunque anche noi dei bonus un po' alle vibes di Tyrants of the Underdark se vi ricordate e... ok questa la conoscevo questa la conoscevo ed eccolo qua arriverà anche sempre con Asmodee di nuovo dall'universo Star Wars la seconda scatola base combinabile comunque con la scatola la scatola già presente di Star Wars The Building questo qua ambientato nel periodo della guerra dei cloni quindi in realtà ci portiamo prima temporalmente rispetto alla prima scatola base abbiamo nuovi personaggi c'è anche Jar Jar Binks volete non poter giocare Jar Jar Binks non costa niente non vi da abilità quando lo giocate lo dovete buttare dalla finestra diventa un bellissimo gioco Legacy e poi chiudiamo quest'ultima puntata di questa stagione di Next ricordandovi che a settembre arriverà anche dopo la pre-release che c'è stata a Play arriverà l'edizione italiana di Unmatched Sans Origin così chiudiamo in bellezza parlando di questa scatola che parlerà italiano con due nuovi personaggi Oda Nobunaga e Tomoe Gotzen scusate faccio sempre fatichissima a pronunciarli Oda che avrà la guardia di onore al suo fianco Tomoe che invece attaccherà a distanza ma sarà da sola non avrà dei gregari e questi due personaggi dall'estremo oriente arriveranno ed entreranno anche in tutte quante le scatole di Unmatched delle nostre case per nuove sfide e quindi abbiamo anche la bellissima miniatura di Oda qui da ammirare la bellissima miniatura di Tomoe e la nuova mappa nella quale si giocherà e occhio a scendere giù al centro perché veramente come se fosse una casa due piani occhio a stare sotto perché è difficile poi ritornare sopra e vi massacrano quando vedo un nome giapponese però sempre leggero al contrario perché sembra finto infatti No Unmatched No Ferie e signori siamo giunti alla fine della puntata Signore e signori grazie grazie mille per quest'altra stagione assieme grazie per tutti quanti questi mesi in cui siete stati qua in nostra compagnia grazie mille davvero per il vostro tifo per i vostri abbonamenti grazie mille per tutta quanta la compagnia che mi tenete in live grazie per essere sempre stati numerosissimi grazie per essere per esserlo stati anche oggi nonostante sia il 22 di luglio grazie mille davvero di cuore io vi auguro buone estate buone vacanze buon lavoro per chi continuerà a lavorare buon tutto quanto giocate divertitevi riposate state con i vostri affetti più cari passate del tempo di qualità con le persone a cui volete bene e noi spero ci rivedremo prestissimo passeranno in fretta queste settimane spero di incontrarvi quanto prima tutti quanti ci saranno nuovi appuntamenti in quel di settembre quindi continuate a seguire i canali social di DungeonDice.it continuate a seguire i canali anche di GetOnGames perché vi assicuro che io non ho potuto dirvelo ma ci sono un sacco un sacco di annunci che vogliono fare quindi grazie davvero anche a DungeonDice per darmi la possibilità di essere qua con voi tutti quanti lunedì grazie mille a tutto lo staff ancora una volta che lavora dietro le quinte Valeria Lidia Margherita grazie mille a tutti quanti che davvero ci consentite di essere qua a bearci durante queste nostre live grazie anche a Teo per tutti quanti i suoi high five di questa stagione e grazie soprattutto a voi noi mi raccomando state bene state in forma divertitevi riposatevi rilassatevi mangiate dormite fate tutto quello che avete sempre sognato di fare e giocate giocate un sacco per i vostri acquisti io vi ricordo DungeonDice.it perché se DungeonDice TV va in vacanza DungeonDice.it non va in vacanza quindi anche la settimana di Ferragosto potrete ordinare i vostri giochi magari con una smedizione e non stress perché dai oh e anche agosto anche per chi lavora in magazzino da DungeonDice grazie mille ragazzi a tutti quanti baci abbracci vi voglio bene grazie mille per tutti quanti i messaggi grazie davvero di cuore vi voglio bene e ci vediamo spero presto ciao